il piano di comunicazione di Puglia Promozione in cui a un certo punto ci sta scritto contatti previsti 8000 cioè numero di contatti contatti singoli che sarebbero il visitatore perché quello ha imboccato la strada, sto comprando un prodotto di pubblicità, tu hai un punto di forza da questo punto di vista, non c'è dubbio l'altra cosa che ti domanderò ma avete un accordo, c'è una cosa certa sì sì è una cosa certa sicuro, non è che quelli dicono sì sì facciamo i passaggi sul giornale poi dipende, quanti ve ne danno perché ha imboccato la strada di un reale punto di forza, compro a voi pubblicità a basso costo e a questo si aggiunge il fatto che proprio l'approvazione del progetto determina poi la nostra partecipazione a quattro fiere sia nazionali sul consumo meraviglioso che vuol dire partecipazione a quattro fiere? andate lì con uno stand, una cosa sì, noi diciamo che nel progetto Puglia Zamo ci ha finanziato e potete metterci il mio logo? certo quanto volete? certo quanto volete? Medimex fa la cosa giusta no no, fa la cosa giusta le cooperative sociali, le associazioni che se le guardano a Milano vabbè ho capito che io non vendo le associazioni invece il primo? il primo è il Medimex che è una fiera mediterranea della musica e poi abbiamo Santiago De Compostela ok, stop, stop, stop è un evidente punto di forza per quanto possa essere tattico rispetto a quello che fate voi è un punto di forza questo non c'è ombra di dubbio c'è materia proprio da lavorare un altro punto di forza un altro punto di forza vabbè l'abbiamo visto in termini di corporate social responsibility il fatto che il nome venga associato ad una rete di socialmente responsabili che ha una divulgazione regionale quindi a livello geografico ok si estende ma sono socialmente responsabili per via di questa attenzione all'impatto ambientale? non solo in quanto ogni festival si caratterizza per un aspetto per esempio abbiamo il primo festival in Italia sostenuto anche da Fitzcarraldo che è il Soundmakers e il primo festival accessibile quindi in termini proprio di disabilità sensoriale quindi diversi aspetti della responsabilità sociale accessibilità, tutela dell'ambiente inclusione sociale il chilometro zero bene e c'è un marchio per queste cose? sì abbiamo un marchio social sounds social sounds che tiene insieme questi festival sì è un marchio che chiaramente viaggia insieme alla regione sì quindi Nichi Vendola lo sa tutto a posto è una cosa proprio spinta da lui sì 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 molto interessante è un po' di forza diciamo mira l'individuo sì il fatto che il nostro progetto musicale porti qua delle prime nazionali quindi degli artisti che per la prima volta si esibiscono insieme producendo dei prodotti nuovi quindi noi a chi volesse associarsi possiamo dare la possibilità di partecipare alle residenti artistiche quindi di assistere al processo produttivo del porto finale nonché con gli artisti quindi quindi allora questo questo punto di forza che percepisco con un pochino più di difficoltà perché non sono del settore quindi voi lo rivolgereste a quale tipo di target? ai potenziali associati quindi gli individui giovani musicisti cioè gente che vuole fare musica ho capito bene? sì 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 ma semplicemente anche i sostenitori dei gruppi i supporter quelli che vanno a qualunque concerto si fanno anche viaggi di chilometri io sì sì madonna mia ma guarda una cosa devastante io prima che diventasse famoso che era Mengoni c'era un concerto eccetera eccetera ma c'era un gruppo di fan che era ma devastante veramente cioè veniva quattro ore prima era una cosa da due trecento persone perché lui ancora non era famoso era un concerto a raccolta fondi per un'associazione sono arrivati due tre ore prima con le bandierine le cose stavano in prima fila tutte le volte che passava lui ah svenimenti cosa fantastica proprio un'energia enorme però sai che per noi erano utili perché era comunque un grande evento tutti applaudivano tutti si agitavano perché c'era sto gruppo di 20-30 ragazzine scatenate e anche ragazzini che era proprio devastante quindi è vero può funzionare allora mi sembra ok vada bene per i supporter però dipende da quanto costa perché intanto io al concerto ci vengo uguale se c'è Mengoni sicuramente può essere interessante per giovani musicisti e via di seguito perché indubbiamente non è che molti mi offrano di vedere tutto quello che c'è intorno all'evento come si produce le cose poi di stare a contatto con gli artisti il mio figlio è appassionato appassionato è fotografo non è che è appassionato ormai è grandicello è chiaramente un investimento che ha fatto andare nei posti in cui ci sono fotografi Berlino Tacheles che è sicuramente arte pittorica ma anche fotografia eccetera per condividere vedere mettere le mani in pasta poi ha fatto la foto agli artisti poi le ha pubblicate quindi se uno si vuole dare da fare quello è l'ambiente giusto non c'è dubbio e quindi che gli propongo di fare? beh gli individui di associarsi a Umeni? a Umeni ma a noi allo stato attuale delle cose considerando un obiettivo si economico si anche 15 euro vanno benissimo ma no mi stai dando un valore che è 100 volte superiore a 15 euro poi è chiaro che non ti posso chiedere una cifra che non mi puoi dare ma 15 euro 20 porca paletta ma manco la carità in chiesa dai va bene 20 vabbè su questo si ragiona su questo si ragiona su questo si ragiona eh? si anche qui vorrei vedere ma questo target quante persone solo che propensioni hanno perché io non do per scontato che comprano una cosa che gli interessa ma questa è un'analisi che facciamo dopo va bene la sostanza c'è ottimo signori complimenti mi sembrano tutti quanti ragionamenti molto sensati quindi il mio caldo invito è questa cosa qui adesso didatticamente la chiudiamo perché dobbiamo aprire le aziende va bene quindi useremo quei punti di forza che valgono per le aziende evidentemente quindi voi giocherete su questa cosa del co-branding la chancing o sponsorizzazione eh perché non diciamo avete più la vendita da individui ma insomma ci giochiamo però l'importante è che voi torniate a casa e questo lavoro non lasciatelo lì appeso al chiodo cioè fatelo in maniera più o meno sistematica perché evidentemente il tempo è quello che è perché sicuramente vi dà una marcia in più se non altro vi fa venire degli spunti delle idee cioè aiuta molto anche la creatività come voi vedete no? e fatelo quindi mai da soli con voi stessi perché qui lo strumento è il brainstorming cioè bisogna che i cervelli interagiscono se no non esce fuori nulla sì all together magari non cento persone meglio due o tre però bisogna molto dialogare confrontarsi e proprio fa parte del processo creativo anche di analisi non solo creativo del processo di analisi se la fai da solo almeno che non sei un genio e anche qualche grave problema psichiatrico è molto è molto difficile che tu lo possa fare allora signori beh non mai dire mai eh allora ehm da qui alla pausa del pranzo vediamo la materia delle aziende in modo che subito dopo la pausa del pranzo e quindi alle due abbiamo deciso vero? ok alle due attacchiamo un laboratorio che ci porterà rapidamente a dire fra le tante possibili aziende con i nostri punti di forza a chi andiamo più o meno tutti hanno un computer no? ok va bene no perché sennò uno potrebbe anche dire mi è venuto in mente Di Vella fammi da un'occhiata a Di Vella ma insomma adesso lo facciamo in maniera un po' approssimata comunque ci sono gli smartphone qualche cosina si può fare c'è anche il mio computer quindi si può anche fare ok? e in modo che prepariamo non proprio la proposta in tutto e per tutto l'idea con la quale andremo e valutiamo se effettivamente c'era sostanza per andare da Di Vella o quello che sia quindi adesso io vi racconto come ci si arriva dandovi anche dei dati e delle dei datisi di mercato più che altro sto mercato delle aziende che cerca che non cerca per quello che sappiamo allora abbiamo già fatto la distinzione in tre grandi cose l'abbiamo richiamata chi guarda la responsabilità sociale chi guarda la sponsorizzazione la pubblicità e via di seguito quali sono le forme principali all'interno di queste tre aree sono donazioni filantropiche la liberalità in denaro l'abbiamo già detto beni e servizi perché mi potrebbero essere essenziali quindi non lo scartate soprattutto in questo momento di povertà l'azienda se può dare beni e servizi indubbiamente è molto semplice è più semplice non è molto semplice scusate è più semplice quindi analizzate bene nel vostro piano dei costi se alcune voci di costo che portano al denaro non possano essere annullate prendendo direttamente o il bene o il servizio che vi è necessario perché su questo è più facile peraltro essendo più facile l'azienda fa una cosa con voi vi conosce e quindi si crea un ambiente più favorevole per una prossima possibile richiesta invece di denaro questo potrebbe essere un buon modo di aggancio con quel popolo che non investe eccetera eccetera di piccoli produttori io potrei cercare una cosa in cui ci sia uno scambio beni e servizi ma con la logica di portarlo su un terreno di investimento tempo e professionalità dei dipendenti second band serve volontariato l'azienda decide che fa volontariato per te adesso guardando un po' i vostri casi non mi viene così automatico però lo dobbiamo annoverare raccolta fondi tra i dipendenti io dico a tutti i miei dipendenti partecipate date un'ora del vostro lavoro per l'equivalente di un'ora del vostro lavoro per qui ci vogliono cause sociali molto forti eccetera eccetera e i regali di Natale questo potrebbe essere uno spunto eventualmente perché le aziende comunque qualcune non tutti hanno comunque un capitolo di spesa sui regali di Natale che tendono sempre di meno a essere il cestino poi ognuno ha il suo pubblico quindi se il pubblico di un'azienda si aspetta il cestino col salame la bottiglia il panettone gli mandi quello però insomma le sponsorizzazioni hanno logo ok metto il marchio ti do i soldi corporate hospitality ma io questo già ve l'ho detto vero? no l'ho detto all'altro ieri ai dirigenti delle scuole evidente ma arterio sclerotide è una brutta presti ospito l'azienda all'interno delle mie attività questo va da un estremo che è lo stand in cui vieni qui vendi tuoi prodotti che è tipico delle fiere dei congressi eccetera eccetera fino invece a un'integrazione nel progetto cioè fai una cosa insieme a me lo dico sempre a titolo di esempio perché risulta molto semplice faccio una giornata sul vino negro amaro ho dei produttori qua che non è che vengono solo col vino a vendere anzi se facessero solo quello potrebbe assomigliare a una vera marchetta ma magari ti spiegano il processo oppure mandano i loro sommelier che caspito ne so ecco questa è corporate ospitality perché l'azienda gioca un ruolo evidentemente si sospetta positivo all'interno della tua iniziativa cost related marketing più vende il prodotto l'azienda più se fanno soldi per voi compra questo sostieni quello nella cultura in Italia si fa molto poco anzi così a naso non mi ricordo cose significative cioè di legare un prodotto a una causa sociale a un'organizzazione non mi risulterebbe strano se lo si facesse per dire per la scala oppure per la scuola di formazione della scala cioè per grandi marchi per cose minori non l'ho mai visto generalmente si fa su cause sociali la nuova casa alloggio per i disabili piuttosto che no? l'icensing ne abbiamo accennato prima io ti do in licenza il mio marchio e tu me lo paghi perché il mio marchio te serve qui bisogna stare attenti perché dare in mano a qualcuno altro il marchio è dare in mano la propria identità quindi va insomma il caso tipico è Golia bianca WWF non è donazione filantropica non c'è scritto da nessuna parte nessuno lo dice perché la cosa è molto onesta che Golia sostiene il WWF o la campagna orsi bianchi o altro no studiatevi bene il pacchetto c'è semplicemente il marchio del WWF punto perché? perché Golia ha deciso che il marchio del WWF è attrattivo rispetto a un certo tipo di clienti e quindi sa che diventa motivo di vendita e quindi lo paga in genere il licensing ha dietro dei contratti anche molto complessi con le clausole i limiti i vincoli perché bisogna stare attenti e spesso porta a dire lo stamperai in un milione di pezzi mi dai una royalty di zero che ne so sulle vendite insomma poi entriamo in un mondo che insomma è inutile che ci perdiamo tempo in Italia licensing per esempio l'ha fatto molto UNICEF a volte è stato anche un po' contestato per questo però insomma vedi do via il marchio di UNICEF ad aziende che lo possano usare perché il marchio di UNICEF vale soprattutto sotto Natale oppure tu ci stampi le agende però mi devi pagare il marchio UNICEF questo lo fanno anche altre organizzazioni WWF lo ha fatto anche con un pane lo ha fatto anche con Ariston con un ruolo quasi certificante e voi capite Ariston esce con una lavatrice a impatto prossimo allo zero c'è chi me garantisce c'è sopra un marchio WWF se il WWF è serio e credo che sia serio gli ha fatto il pelo e il contropelo a quella lavatrice perché se quella lavatrice invece o funziona male o impatta troppo nell'ambiente poi il WWF muore lo chiudi no? investimenti e vabbè devo fare era il caso della nostra collega di ieri devo fare appunto un capannone di mille metri quadri in cui facciamo dalla radio la cosa eccetera eccetera io potrei avere un partner che mi mette i locali oppure che investe su questa cosa perché ok in questo capannone però ci mettiamo anche un mio store no? per dire quindi a questo punto il progetto è condiviso anzi al limite partendo da un'idea che magari è nostra è costruita insieme e tende a collimare interessi commerciali o anche non commerciali dell'azienda dentro allo stesso progetto che possiamo dire sul mercato della raccolta fondi dalle aziende? allora possiamo dire queste cose che sono per lo più cattive notizie il mercato delle sponsorizzazioni attenzione questo sicuramente è un'indagine fatta bene fatta da StageUp che è un leader nel settore delle sponsorizzazioni sportive che però fa un monitoraggio insieme a Ipsos che è un istituto di indagini quello di Pagnoncelli e monitorizza l'andamento delle sponsorizzazioni il concetto operativo di sponsorizzazione che hanno utilizzato non è proprio chiarissimo perché ci stanno dentro sicuramente tutte le sponsorizzazioni commerciali cioè quella che c'è un contratto ti do questo per questo eccetera però a leggere qui e là sembrerebbe che a volte dentro a sto fenomeno vedono leggono analizzano anche la donazione filantropica che invece è tutta altra cosa come vi ho già spiegato quindi insomma non sappiamo se sia proprio strettamente il mercato delle sponsorizzazioni oppure sia un mercato più generale delle finanziamenti da parte delle aziende com'è? come non è la notizia è molto chiara e cruda è diviso in tre sotto comparti questo mercato sport che fa storia a sé tutte altre regole puttanaio cultura siete voi e utilità sociale cooperative sociali associazioni cooperazione allo sviluppo e quant'altro nel 2011 ha toccato quota un miliardo e quattro sto mercato è valutato come un mercato di un miliardo e quattrocento milioni che però ha avuto un calo del 5% rispetto al 2010 ma che viene da una storia di forte calo dal 2009 a oggi c'è stato no dal 2009 al 2010 no dal 2009 a oggi c'è stato un calo del 20% in buona sostanza siamo tornati a livelli di questo mercato degli anni 90 ok? quindi è un mercato in forte decrescita proprio a capositto eh? il dei tre sottosettori il più colpito è quello della cultura ok? ecco benvenuti nella realtà accomodatevi pure è stato colpito in modo significativo rappresenta un 20% in tutto il settore quindi tanto per dare l'idea so circa 300 milioni di euro l'anno eh? chiaramente stiamo parlando che vanno in sponsorizzazione a cultura all'interno di questo settore reggono abbastanza i restauri di opere importanti mi dispiace per voi ma spettacoli e mostre sono insensibili le calo padonna che fregatura ragazzi le aziende il loro punto di vista dicono a parte l'influsso della crisi economica vediamo che altro ci possiamo tirare fuori sono impaurite dalla crisi economica ma anche dalla inefficacia delle sponsorizzazioni fatte fino ad oggi cioè è chiaro finché io sto in un momento di ricchezza io dico sempre per dare l'idea le sponsorizzazioni nelle strategie di comunicazione promozione di un'azienda in Italia per la cultura che abbiamo le sponsorizzazioni è come quando tu giochi alla roulette tu fai delle puntate strategiche speri di fare il botto poi metti una fish sul rosso una fish sul dis ci provi ecco le sponsorizzazioni sono quelle alla grossa e poi invece da un'azienda che hanno un programma proprio strategico di sponsorizzazioni ma in Italia non c'è una grandissima cultura delle sponsorizzazioni quindi è chiaro che se in un momento di ristrettezza economica io i pochi soldi che ho li faccio sulle puntate importanti che sono la pubblicità un signore come Telecom se non fa mille spot al giorno sparisce dopo 30 secondi non può non farlo e quindi chiaramente mantiene le posizioni su quei canali obbligatori dove magari non è che ci trova un grande valore aggiunto ma non può non starci no? c'è concorrenza per tanti motivi è il più usuale c'ho le tecnologie e lo so fare è consuetudinario è chiaro no? non faccio un grande almeno che non sono un illuminato e ci ho lavorato dietro non faccio un investimento strategico che dire non vado più in tv e vado sul web punto oppure faccio solo sponsorizzazioni questo sicuramente poi non lo fa in un momento di crisi in cui ognuno fa quello che è più sicuro da gestire il minimo possibile senza inventarsi nulla di nuovo è sbagliato da un punto di vista strategico in momenti di crisi dovrebbe investire sul futuro però è umano fanno fatica a trovare dei partner di lungo periodo attenzione attenzione questo è quello che dicono loro che è esattamente lo stesso problema nostro la cosa interessantissima quando ho visto quest'indagine ho detto ma che dicono questi dicono ma che caspio queste sponsorizzazioni solamente cosa morde e fuggi in attimo ma è esattamente lo stesso problema che ho io allora però mi sono domandato forse non gliel'abbiamo comunicata bene questa cosa forse siamo andati noi stessi con l'idea di morde e fuggi offrendogli solamente cose di breve respiro mentre invece se voglio fare una sponsorizzazione io voglio costruire una cosa ragionevole fatta bene valida che però possa seguire per 4-5 anni anche perché quella morde e fuggi probabilmente non mi paga a me no? quindi attenzione questo è un bel segnale per noi che invece magari lo dico anche a me stesso in origine dicevo ma le aziende non vogliono mai fare cose di lungo respiro vogliono fare la cosa il gettoncino di presenza e invece non è vero a sentire loro è così molto interessante ma solo cose ed eventi occasionali manca originalità e specificità dei progetti che permette alle aziende di avere prodotti che facciano la differenza rispetto alla classica pubblicità questa è l'altra cosa che dicono mi proponete delle cose che non sono innovative non fanno la differenza per cui io non ho dei buoni motivi per dire sì ok 50.000 euro li levo dalla pubblicità e li metto su una sponsorizzazione perché non sento niente di nuovo quindi è un'accusa poi è chiaro questo è il loro punto di vista noi potremmo rispondere è un'accusa a dal loro punto di vista una progettualità che non è particolarmente innovativa per loro ok teniamone conto perché non è che dobbiamo cedere però questi sono spunti molto interessanti attenzione che invece la domanda culturale la spesa culturale che che se ne dica diminuiscono ma in modo molto lieve quindi sì la crisi economica impatta pure sulla domanda culturale ma non è che impatta in maniera tragica la gente continua ad andare ai musei la gente fa la gente cosa ripeto non compra libri perché ci sono dei titoli che fanno schifo non va al cinema perché ormai me lo vedo a sky ma è un altro discorso da domanda culturale per esempio tutte le cose che rientrano nella categoria in spettacoli ed eventi di strada non è vero la domanda culturale aumenta culturale paraculturale un po' vino cultura eccetera tutta staria qua che lo mettono nella cultura perché comunque cultura è il cibo per esempio questo qui in aumento tutto quello che si avviene in strada spettacoli salti in banchi tutto in aumento il calo più sensibile riguarda il cinema lo abbiamo detto infatti sono disperati gli eventi minori spesso di arti ecco le arti miste a carattere più conviviale crescono in modo molto sensibile questa è una buona notizia se fanno eventino qua è più probabile che andare al cinema allo stato attuale se l'azienda ragiona la sa questa cosa qui quindi mi conviene sempre meno stare al cinema almeno che il mio obiettivo non sia fare i grandi numeri e faccio l'accordo con le sale cinematografiche di Fininvest e mi interessa essere invece di più laddove il pubblico partecipa più volentieri più numeroso vediamo invece le donazioni liberali su questo sappiamo molto poco quindi non sponsorizzazioni l'unica indagine ma ormai anche vecchia l'ha fatta da un putista economico è fatta bene è fatta sulle denunce dei redditi delle aziende e si è andati a vedere nella denuncia dei redditi quanto l'azienda ha messo nella defiscalizzazione cioè ho donato tot e chiedo quindi la deduzione quindi l'ha messo nel quadro erogazioni liberali e appare che le aziende complessivamente ma il dato è veramente vecchio donano 250-300 milioni all'anno ma siccome la fonte sono le denunce dei redditi e non tutto quello che le aziende donano lo tracciano per definizione ritengo che sia di più anche perché attenzione c'è un limite a questo tipo di indagine comunque l'azienda ha un tetto massimo oltre i 70.000 euro o oltre il 2% del reddito di impresa non può più defiscalizzare il suo contributo quindi l'azienda che ha donato un milione di euro dentro la sua denuncia dei redditi dice trovo il pezzo da 70.000 ok quindi è solo un indicatore che comunque mi permette di dire una cosa noi abbiamo una legge sulla defiscalizzazione in Italia che è quella che vi ho appena detto ok e sti 250-300 milioni rispetto al totale che tutte le aziende potevano defiscalizzare facendo erogazioni liberali rappresenta solo il 25-30% ciao Cristina ma tu sei qui per salutarci perché questo è un doppione di quello che hai già fatto fammi stare tranquillo con la coscienza ok a posto perché è una affigionata dei nostri corsi e allora io quando ho visto che lei diceva passo 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 ho detto Dio sente lo stesso corso è venuto a fare a Torino no quello di Torino quello di Torino era un po' di più perché se no sarebbe giusto dire se lo sapevo non mi iscrivevo a Torino e venivo qua no no era di più quello di Torino il numero delle aziende quindi vuol dire che molte aziende questa pratica non ce l'hanno forse neanche lo sanno quindi complessivamente noi dovremmo fare una promozione migliore di questo che comunque è un vantaggio fiscale il numero delle aziende che investe in responsabilità sociale questo invece ci interessa molto è in crescita siamo ormai attestati sul 70% delle aziende cioè 7 aziende su 10 in un modo o nell'altro hanno un loro programma di responsabilità sociale d'impresa non tutti i programmi di responsabilità sociale d'impresa portano a un'azienda che dà soldi a volte è miglioramento delle condizioni del lavoro a volte è attenzione all'impatto ambientale però è un indicatore che ormai è passata come cultura di base delle aziende addirittura in quelle grandi siamo all'88% e la media di investimento annuo per azienda su programmi di responsabilità sociale d'impresa vedete che non è proprio una sciocchezza è 220.000 euro qui dentro ci sono dai 5, 6, 7, 10 milioni di un Enel di un Eni per dire e chiaramente ha i 1000 euro del caseificio di potenza va bene? l'altra bella notizia notate la follia di Bill Gates è lui che decide la numerazione lo decide lui quindi siamo al punto 3 ma in verità per Bill Gates è il punto 5 questo delirio di onnipotenza dei programmi di office allora anche le piccole e medie imprese fanno responsabilità sociale questa è una grande notizia perché noi siamo un mondo non profit fatto all'88% di piccole e piccolissime organizzazioni non profit e un mondo imprenditoriale che è fatto all'80% cifra più cifra meno di piccole e piccolissime organizzazioni quindi noi a un livello macro di mercato non possiamo pensare di campare il mondo non profit oltre solo con le grandi c'è proprio un discorso numerico quantitativo e quindi anzi dovremmo migliorare la nostra capacità di offrire un qualche cosa che sia all'altezza delle piccole è chiaro non posso andare lì fammi la sponsorizzazione da 20.000 euro la pubblicità perché il caseificio di potenza di andare in giro in tutto il mondo magari non gliene frega ora però su questo c'è anche un certo orgoglio ne dobbiamo tenere conto perché quando l'Italia era diciamo ha guidato governato il semestre europeo della commissione europea allora era ministro del welfare Maroni che fece una serie di incontri europei sulla responsabilità sociale ok io partecipai a uno di questi incontri in cui vendero persone da tutta l'Europa a parlarne e presentarono una ricerca che commissionò alla Bocconi in cui emergeva sostanzialmente questa notizia il vero problema della responsabilità sociale di impresa in Italia è che la fanno solamente le grandi ci si chiacchiera ci si cosa eccetera cambia scenario e vanno sul tavolo i rappresentanti di Confartigianato Confcommercio tutti i piccoli i medi e anche il responsabile delle piccole e medie imprese di Confindustria che in genere è la grande industria tirano fuori il Kalashnikov da sotto il tavolo e incominciano a sparare bordate ragazzi noi artigiani sono 800 anni che facciamo la responsabilità sociale di impresa e qualcuno chiaramente gliel'ha detto se tu cerchi dall'artigiano il fenomeno Dash Missione Bontà è evidente che non lo trovi quindi hai sbagliato il tuo concetto di responsabilità sociale di impresa e hanno incominciato a sciorinare dati cose quindi attenzione che c'è anche un certo orgoglio almeno a livello di categoria nel dire che non è vero che i piccoli sono tutti farabutti ripuliti che giocano a fare l'imprenditore no c'è una cultura c'è una sensibilità che anzi è molto più forte perché siamo molto più radicati nella comunità locale quindi a noi ci viene naturale magari non lo diciamo non la chiamiamo così ma a noi ci viene naturale e devo dire che io di esempi ne ho visti tanti nella mia esperienza ne cito sempre uno perché fa capire come funziona la mentalità a volte di un imprenditore che è anche un cittadino coordinai un progetto diciamo di investimento sul capitale sociale locale a Pisa che alla fine si sostanziava che l'Unione Europea finanziava cofinanziava dei progetti diciamo nell'ambito dell'inclusione sociale e quant'altro a Pisa su un progetto di questi che era l'aiuto al reinserimento sociale o perlomeno come dire mitigare gli effetti negativi di donne che sono state colpite dal tumore questo era un progetto che fu finanziato però era cofinanziamento quindi il proponore del progetto doveva portare altri partner che ci mettessero altre risorse che avessero un valore economico ok allora i promotori di questo progetto portarono come partner un parrucchiere di Pisa un parrucchiere di Pisa che nell'ambito di questo progetto si rese disponibile ad andare due volte alla settimana all'ospedale nel reparto e di non solo fare normale lavoro di parrucchiere ma anzi con le sue competenze e il suo personale di aiutare a gestire al meglio il problema dell'estetico che si può creare in donne operate al seno piuttosto che va bene o soprattutto quelle che devono fare una terapia chemioterapia per via dei capelli ora quando io sento la responsabilità sociale d'impresa il ritorno d'immagine la reputazione ma voi pensate che il parrucchiere di Pisa ha aumentato i suoi clienti oppure è diventato più famoso a Pisa per questo no lo ha fatto perché evidentemente ha una sensibilità non c'è titanino come gli altri io l'unica cosa che ho chiesto volevo capire da un punto di vista motivazionale se in famiglia lui avesse avuto un problema del genere ma eventualmente ci andava lui no ci è andato con tutte le maestranze quindi c'è dentro il fatto che io come impresa ho delle competenze che se riesco a creare un clima buono all'interno spendo anche socialmente poi che si parli bene di lui sì ma lui non è che ci ha fatto pubblicità se doveva aumentare i clienti e comprava uno spazio sul giornale non andava a fare una cosa del genere gli costava pure meno perché voleva dire che il giorno di chiusura del parrucchiere lui andava lì nell'ospedale e quegli altri dicevano sì vengo volontariamente perché non è che gli poteva pagare cioè rientrava nello stipendio generale non era straordinario no? e che un altro giorno un pezzo del personale tornava là cioè è caspiterina non lo so ecco allora questa come la dobbiamo chiamare non è Dash missione e bontà ma è responsabilità sociale d'impresa che può arrivare al singolo commerciante un terzo delle aziende usa la responsabilità sociale d'impresa esclusivamente attraverso donazioni verso soggetti terzi che bella notizia un terzo di questi per fare responsabilità sociale devono dare soldi a qualche di un altro eccoci siamo qua venite siamo a vostra disposizione quanto me volete da eh aspetta che ci penso un attimino poi ti rispondo due terzi invece quindi un terzo è buono due terzi ricerca un convolgimento diretto a fianco dei soggetti terzi cioè voi o il pubblico destinatario delle vostre attività coinvolgendo anche il proprio popolo i dipendenti la propria clientela ecco allora questa vedete che è una spinta molto forte se faccio responsabilità sociale d'impresa men che meno voglio essere solo il marchio sul manifesto voglio avere un ruolo attivo perché è chiaro che voglio far valere il mio impegno sociale se non mi dai un ruolo attivo se non mi integri nel progetto io questo valore aggiunto non riesco a riscuoterlo vi è chiaro? quindi attenzione che se battiamo quel canale noi dobbiamo essere in grado guardando il nostro progetto di capire come loro si possano integrare dentro non per motivi commerciali lo stand in cui vendono qualche cosa ma invece proprio per raggiungere insieme a noi la finalità del progetto i trend generali che siano sponsorizzazioni o donazioni filantropiche uno questo è furtissimo l'azienda da bancomat a partner l'azienda non vuole essere ritenuta un bancomat se un'accusa ci fa e dice voi mi avete ritenuto un bancomat avete bisogno di soldi venite giù allo sportello infilate la tesserina e io vedevo dai soldi ci hanno ragione da vendere è stato così diciamoci la verità noi l'abbiamo ritenuto così lo dicono anche gli amministratori i ministri adesso abbiamo finito i soldi tocca alle aziende come se fosse uno sportello assistenza bancomat questa è una cosa che li manda in bestia e ci hanno ragione quindi se voi andate da un'azienda qui e là gli è sparata una frase dicendo noi siamo da voi non perché pensiamo che siete un bancomat ma fate una cosa giusta perché per loro è proprio uno slogan un passaparola io in tutti i convegni in cui vado in cui si parla di filantrovia eccetera se parlo a un uomo d'azienda uno di confindustria la prima cosa che dice è ma noi non siamo un bancomat e che caspita e hanno ragione alcuni incominciano a dire io le sponsorizzazioni non le faccio poi le fanno ma gli vogliono dare un altro nome proprio per affrancarsi da questa vecchia pratica e magari dicono le chiamano partnership quindi le due grandi parole chiave come trend del mercato sono no bancomat partnership non voglio più essere solo un logo sul manifesto questa è un'altra cosa che volete dire anche perché marchetto suo sul manifesto lo sa lei me lo insegna lei che valore aggiunto porta oggi come oggi le aziende hanno un decision making un processo decisionale complesso non vi pensate che se beh certo se vado ad un'azienda mono imprenditore lui fa decide fa marketing fa tutto però anche un'azienda media ha un decision making che è complesso c'è il punto di vista del marketing c'è quello della cassa c'è quello là del presidente del consiglio di amministrazione soltanto che è molto più rapido di quello pubblico una volta che l'azienda ha deciso si passa in cassa e si prendono i soldi cosa che invece questo non succede nelle diciamo le istituzioni pubbliche in relazione alla crisi economica si registra un brusso calo dei finanziamenti da parte di aziende soprattutto di tipo pubblicitario e promozionale quindi avete una buona chance sulla pubblicità ma attenzione che quasi tutte le aziende hanno ristretto il loro budget pubblicitario e qui vi do un'altra notizia importante perché non è segnata qua ma è una notizia che un po' di tempo fa monitoraggio che si fa su quanto investono e come investono in pubblicità le aziende fa notare che il settore primario continua a rimanere la tv che viene mantenuto con le unghie e con i denti ok la carta stampata è in discesa l'unico che è le sponsorizzazioni sono al crollo l'unico che è in salita è il web quindi è chiaro poi come peso percentuale è ancora il più basso di tutti ma è l'unico che ha un trend in salita quindi attenzione che le aziende stanno guardando con sempre più attenzione al web e da questo punto di vista hanno due o tre difficoltà interessanti la prima può essere di ordine tecnologico alcune aziende ne capiscono meno di voi quindi li potete aiutare non ce la fanno non ci arrivano non hanno tempo non hanno consuetudine cultura sanno che lo devono fare gli è arrivata sta ventata sta soffiata e però la seconda cosa invece perché buona azienda ci metterebbe un attimo è che stai sul web però il web non è che proprio puoi fare pubblicità e basta certo compri lo spazio sul web quando tu vai in un sito ti arriva quella caspito di video che ti devi beccare ma è pure antipatica il web il valore aggiunto te lo dà non solo come canale in cui fai l'affissione fai lo spot ma se usi tutta la sua potenzialità da questo punto di vista il web che è molto social le aziende tende un po' come dire a respingerle più che respingerle sono un po' come pesci fuor d'acqua mi spiego se io come azienda apro la mia pagina facebook probabilmente ho gli aficionados punto ma non è che riesco a fare dialogo più di tanto se sono la pagina facebook delle Lally Kelly ci avrò le bambine di 10-12 anni urlanti che giocano con le figurine Lally Kelly lo sticker basta non è che faccio social è un altro posto in cui metto il mio stand no? chi è che è forte invece in questo? chi ha un'identità sociale e quindi attaccarsi a qualche uno che ha il profilo giusto per dialogare con il mondo questa è una carta in più per dialogare sui social in questo senso molte aziende tendono a stare sul social legandosi a campagne che abbiano un valore sociale in cui il traino lo fa c'è Esvi Lunicef se voi avete un forte livello social e un buon livello web siete più appetibili in questo momento non c'è dubbio magari dici vabbè io i contatti gli spettatori sono quelli che sono però c'ho una community di 20.000 e qui servono i dati di 20.000 che otto volte all'anno vengono sulla mia pagina interagiscono così passano ad altri siti che sono di questo genere cioè fare un buon monitoraggio di quello che succede nel nostro web potrebbe rappresentare soprattutto per aziende piccole e medie diciamo una buona dote da portare requisiti essenziali per stare su questo mercato uno capacità di analisi dei soggetti alle aziende possiamo andare a chiedere soldi se c'è qualche d'uno che spende reali ore uomo per studiarsi le aziende non c'è possibilità non c'è voglia di farlo non c'è tempo lasciate perdere se io vado da Vodafone lo ripeto devo aver perso probabilmente un qualcosa come 48 ore di lavoro per studiarmela per filo e per segno se no mi dovrei proprio permettere neanche di avvicinarmi a Vodafone questa è una prima condizione essenziale capacità progettuale e impatto sulla realtà l'azienda è chiaro non stiamo parlando del progetto che presenterei alla regione quello non gliene frega niente all'azienda anzi dopo la terza riga sviene però è abituata a analizzare progetti un'azienda lavora per progetti almeno sulla carta quindi tu vai con un'idea lui guarda subito l'aspetto progettuale quante risorse dove arrivi se hai la strategia giusta per raggiungere il risultato e perché perché è pane della sua vita se lui lavora senza avere progetti chiari sa che sta rischiando troppo quindi guarda le proposte con questa ottica e la seconda è l'impatto sulla realtà l'azienda non sei te l'azienda deve fare altro deve vendere se investe dei soldi è per lasciare un impatto che sia funzionale a c'è un presupposto ma quello che tu fai lascerà un impatto produce un cambiamento anche qui l'azienda è abituata a valutare se ha prodotto impatti il suo principale impatto è se ho venduto i pezzi se ho conquistato un mercato però vuole capire l'azione che impatto irreversibile produce che segno lascia la dico semplice perché una volta le aziende andavano a finanziare spesso il restauro del campanile sì per senso di appartenenza alla comunità ma quello è un impatto tu vai lì c'è scritto grazie al cavalier Brambilla rimane resta prima non c'era prima era sgarupato e adesso non è sgarupato e adesso c'è poi la cultura cambia e siccome siamo nel mondo dell'immateriale magari altre cose hanno un impatto maggiore del campanile restaurato però il concetto ce l'hanno se io faccio qualche cosa con te deve lasciare un impatto se tu non sei in grado di produrre impatti diminuisce il tasso di evasione scolastica se tu non sei capace di garantirgli quello io non ce li metto i soldi al di là dell'interesse che posso avere la cosa perché alla fine devo mettere io per azienda ho il dovere di mettere soldi che producano qualche cosa con te posso produrre socialmente ma devo produrre però e alla fine mi serve sto parametro dopo il mio intervento è calato il tasso di evasione del 5% l'azienda dice ho fatto una cosa buona quando va dall'azionista l'azionista gli deve dire abbiamo scelto l'impegno sociale però caspita propensione alla comunicazione sociale pubblica l'azienda comunque deve comunicare il suo ruolo e si attacca al tuo sistema di comunicazione se tu sei zero comunicazione l'azienda non gli va bene non deve essere per forza pubblicitaria abbiamo detto se è responsabile sociale di impresa anzi l'azienda non ci vuole fare più di tanto pubblicità è quasi controproducente perché? perché la nostra cultura è cambiata e invece è molto più interessata alla tua comunicazione sociale alle radici dell'erba informale che quella che per lei invece è molto più difficile meno credibile oppure la comunicazione pubblica quella che si fa nei convegni nei congressi cioè è molto allora però ce la devo avere questa comunicazione io devo portare sempre in dota all'azienda una buona comunicazione lavoro in partnership con le aziende l'azienda la pensa diversamente da noi ha un'altra cultura un altro approccio alla realtà non è detto che ci abbia le nostre idee ci servono i loro soldi se vogliono essere partner come dicono attenzione che voi dovete essere predisposti a fare un lavoro in partnership che non è facile la partnership è bella che bello la partnership è una rogna pazzesca la partnership è una rogna pazzesca si perde un sacco di tempo si perde ci devi investire tempo devi trovare la mediazione che è una cosa rognosa io la volevo fare così invece per forza per fare partnership la devo fare in un modo mediato e devo mediare con l'azienda quindi attenzione quando dico partnership poi l'azienda se te prende sul serio vuol dire che veramente tu sei disposto a vedere far integrare punti di vista necessità diverse perché se rimane solo un titolo l'azienda ti scarica e questo non datelo per assodato che voi sappiate lavorare in partnership perché non è una dote naturale anzi io dico che servirebbero corsi di formazione per dire una volta che ho deciso di lavorare in partnership come se fa perché non è tanto scontato non sarei io l'esperto però il bisogno ce l'ho molto chiaro in testa che cos'è la responsabilità sociale di impresa diamogli una definizione scusate un attimo sì ok diamogli una definizione rapida questa è la definizione che dà l'Unione Europea prendiamo la buona diciamo per tutto è l'integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali nella produttività e nei loro rapporti con le parti interessate questo è il primo assunto no? quindi l'azienda integra volontariamente non è costretta per legge se no non è responsabilità sociale a integrare nelle sue attività ordinarie delle preoccupazioni sociali ed ecologiche però questa è la parte diciamo in qualche modo negativa c'è una parte positiva che dice è un modo per gestire il cambiamento verso una economia della conoscenza che è più competitiva e dinamica del mondo e di conciliare lo sviluppo sociale e una maggiore competitività quindi l'Unione Europea che poi ci ha investito dei soldi per promuovere la responsabilità della sua impresa dice cari aziende fatelo perché dovete essere più buone ma attenzione fatelo perché è strategico per il vostro sviluppo perché in questo mondo l'impegno sociale è un fattore competitivo non solo perché siete buoni ma perché acquistate questo è molto importante capitale cognitivo conoscenza della realtà senza la quale non sapete rispondere alle sfide e capitale sociale fiducia senza il quale un'azienda non va avanti ok? quindi c'è dietro un passaggio culturale molto profondo prima l'azienda aveva un unico stakeholder gli azionisti rispondevano a loro tutto il resto era funzionale invece in questa logica l'azienda sa che non può governare se stessa è quello che vuole fare solamente con gli azionisti ma deve governare con gli ambientalisti con la società civile con le pubbliche amministrazioni che sono stakeholder portatori di interessi che se si mettono là e se piazzano l'azienda non va avanti quindi deve governare i rapporti con loro è in questo spazio di governance qui si usa il termine governance proprio per distinguere dal governo in senso tecnico che lui deve integrare nelle sue attività relazioni con questi stakeholder quindi noi siamo per loro non tutti forse arrivano a questo livello culturale però l'azienda sa che voi siete uno stakeholder poi se sono un'azienda chimica WWF è uno stakeholder pesante se sono un'azienda che opera nel campo dei giovani eccetera voi siete uno stakeholder importantino se sto nel campo del gioco voi siete uno stakeholder importante però ecco prima eravate dei rompiscatole adesso siete degli stakeholder magari rompiscatole ma siete degli stakeholder se quello fa responsabilità sociale di impresa salto un po' di cose che vi ho detto a voce ecco questo è interessante perché è l'unica cosa che ci dice dati specifici sulla cultura è una ricerca fatta nel 2010 da Civita che ha fatto un'indagine presso le imprese italiane per capire quanto cosa come si dà in cultura 48% delle imprese italiane secondo questa indagine ha investito in cultura negli ultimi tre anni per una cifra di 2,5-3 miliardi di euro qui si valuta il mercato di più probabilmente non si vede solo la parte defiscalizzata non si vedono solo le sponsorizzazioni perché avete visto le sponsorizzazioni erano un miliardo e 4 il 56% dei finanziamenti viene dalle grandi imprese mentre il 44% dalle imprese più piccole anche questo non è un dato malvagio cioè se l'80% sono imprese piccole e piccolissime che l'80% produca il 44% dei finanziamenti io mi aspettavo molto di meno il 20% delle aziende grandi investe oltre 500 mila euro grazie ci si accendono le sigarette un quinto di queste investono oltre un milione di euro questo quinto sono Vodafone sono Enel sono Eni sono Finmeccanica purtroppo sono eccetera eccetera Terna spesso le grandi ex aziende di stato generaliste general service ferrovie dello stato è evidente insomma il 25% delle aziende investitrici al nord il 13% basta questi dati non vanno commentati è chiaro maggior parte delle aziende sta al nord è chiaro che non ci perdiamo tempo ci si orienta prevalentemente verso musei mostre e in genere eventi e spettacoli mentre l'investimento in interventi strutturali e di restauro è stimabile solo al 10-15% altra indagine diceva che le sponsorizzazioni si attaccano continuano a rimanere attaccate a monumenti questa invece dice che solamente un decimo un settimo fa sul restauro anche perché onestamente noi abbiamo una marea di roba da restaurare alla fine non c'è questa grande novità almeno che non faccio mister tots colosseo io ho visto tante aziende che vogliono fare il restauro ma con i soldi che avevano a disposizione potrebbero fare una chiesa di seconda fascia di Firenze non Santa Maria Novella evidente e quindi in Italia sì non è che il monumento mi dia questa per forza questa grande visibilità almeno che non spenda 20-25 milioni di euro le aziende investono in cultura perché produce un miglioramento dell'immagine questo è quello che dicono loro che poi sia vero cioè visibilità del marchio ci hanno ancora un po' stomito creazione di contatti diretti e di relazioni questo è molto interessante l'azienda dice perché sponsorizzi perché mi crea relazioni con la clientela con partner ricordatevi quello che vi ho detto ieri l'Italia ha un approccio al fundraising molto relazionale è un modo dare soli un modo per stringere relazioni variazione della reputazione su questo ci sarebbe molto da discutere ma in sede teorica perché secondo me è una fandonia cioè il cittadino moderno è in grado di distinguere Mercedes fa un atto di filantropia aiuta l'AIDS brava Mercedes mi vende una macchina che fa schifo fa schifo non è che la reputazione cambia questa è la mia personale tesi quindi ci vorrei fare una ricerca su questo perché secondo me è più la letteratura che lo dice che la realtà anzi alcune campagne producono un abbassamento di reputazione secondo me che poi non viene mappata perché non c'è una buona indagine post scottex che dà la carta igienica alle scuole per me assolutamente non aumenta la reputazione di scottex primo perché è scontata io avrei aumentato la reputazione di scottex se loro dicevano ma pensa che botta aiutiamo le scuole a uno si pensa a dargli la carta igienica perché tu sei carta igienica no a mandare i nostri figli a fare viaggi di studio in Inghilterra boom cioè secondo me i pubblicitari hanno sbagliato proprio proprio la scelta strategica di fondo è sbagliata non c'è niente di più scontato la scontatezza non buca cioè non passerà alla storia questa campagna ok la scelta del progetto culturale è legata alla tipologia alla connotazione d'immagine dell'evento per il 66% quindi il tipo di evento il tipo di progetto l'immagine che dà la pubblicità comunque contano ancora molto se l'azienda valuta l'efficacia dell'investimento quindi dopo che l'ha fatto dice andiamo a vedere se ho fatto una cosa buona si affida alla visibilità ottenuta sui media quindi siamo ancora un paese abbastanza tradizionale per il 43% delle aziende questa è la valutazione che vanno a fare un altro 15% va a valutare invece se si sono creati maggiori contatti diretti o con porzioni di pubblico proprio con nomi e cognomi il resto non valuta il che fa dire quanto le aziende italiane reputano importante la sponsorizzazione si gioca così non è che vado a valutare se poi ho fatto un euro puntando sul rosso o sul nero cosa chiedono le aziende anche qui vedete riemerge questo dato molto importante il 61% richiede una collaborazione continuativa nel tempo anche loro si sono stufati ogni anno da andare a vedere che sponsorizziamo molto interessante l'accuratezza nella gestione dell'evento vogliono la qualità da voi vogliono che l'evento sia fatto con il sacro crisma ecco esatto ritorni e benefici trasparenti e adeguati vogliono che quello che voi gli proponiate non sia ma sia ragionevole raggiungibile effettivamente quindi è meglio tenersi bassi ma essere sicuri e far vedere che quello è un vantaggio piuttosto che spararla alla grossa personalizzazione in funzione delle proprie esigenze un 16% richiede ma fatemi progetti in cui ce la possiamo aggiustare tra di noi questo è chiaro che per un'azienda sarebbe sempre meglio però anche loro hanno un problema nel fare partnership quindi se l'azienda dice no voglio un progetto da elaborare insieme a te ci deve mettere lavoro pure loro e loro invece devono vendere quindi molte aziende ecco perché il 16% vogliono un buon prodotto che ve la cavate voi io ci metto i soldi e raccolgo i risultati perché poi per il resto devo fare vendita io è chiaro che se faccio un investimento come azienda di un milione di euro su un progetto ho già l'idea che ci investo risorse umane intelligenza e quant'altro quelle che invece non investono in cultura più dei due terzi sono aziende piccole principalmente nel settore commerciale questa è una notizia importante col settore commerciale non è che si riesce a fare molto a vedere il macromercato in quello manifatturiero e nelle costruzioni oltre il 42% di commercio manifattura e costruzioni non sono particolarmente legate al finanziamento della cultura il 42% delle imprese ritiene che questo investimento non serva a sostenere la visibilità del marchio e del prodotto quindi il 42% non fa finanziamento della cultura perché dice non mi porta nessun vantaggio né da immagine né da niente il 21,5% ritiene che non favorisca la variazione delle vendite ci hanno ragione la sponsorizzazione mai strane che in pochi casi ha influito direttamente sulle vendite questo è proprio un errore di cultura della sponsorizzazione delle aziende proprio sbagliato pensare questo la sponsorizzazione non serve a vendere di più servono le promozioni a vendere di più serve a migliorare la distribuzione manco la pubblicità ha un diretto effetto sulle vendite se non in determinati casi lancio di un nuovo prodotto eccetera quindi questa è scarsa cultura loro il 21,5% non ci sono risorse da investire in cultura un 17% dice non lo faccio perché non ho soldi la mancanza di vantaggi fiscali pesa sì ma relativamente perché l'italiano già ci ha fatto pace dice intanto da lì non avremo mai vantaggi fiscali quindi se lo faccio è una priori solo un 11% dice non lo faccio perché lo Stato non mi aiuta 61% delle imprese non trova nessuna ragione che potrebbe fargli cambiare opinione questo è lo zoccolo duro quindi c'è una parte di aziende con le quali allo stato attuale è inutile insistere bisogna aspettare che il papà muore arriva il figlio con un'altra cultura cioè i suggerimenti per una fruttuosa collaborazione questo dice l'indagine l'indagine alla fine commentando dice te do dei suggerimenti per avere migliori rapporti pubblico privato negli investimenti culturali cioè questo si può scaricare entro il 2% del reddito di impresa e comunque non oltre 70.000 euro no 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 queste sono sia piccole che grandi quelle che non donano in cultura l'11% dice non lo faccio perché lo Stato non mi aiuta ma aiuta poco cioè c'è poco sgravio fiscale il 61% delle imprese non trova abbiamo detto allora i suggerimenti occorre passare loro dicono dalla logica del fundraising al project financing riconoscendo nell'impresa una risorsa vitale di energie non solo economiche le aziende vanno coinvolte condividendo obiettivi e risultati molto giusto si tratta solo di intendersi sui termini dal loro punto di vista il fundraising è la vecchia beneficenza e il project financing che è tutto un'altra cosa invece questa è una topica che hanno preso invece sarebbe il futuro perché pensano solo all'aspetto dell'impresa che investe per poi avere un reddito allora l'impresa di costruzione si mette col comune col project financing con lui costruisce i parcheggi oppure la nuova fiera è tutta un'altra cosa quindi è solo una questione di nomi perché se noi sostituiamo corre passare dalla logica della filantropia a quella del fundraising questa cosa è giusta tutto il resto torna quindi l'impresa o noi la riconosciamo come una risorsa vitale la integriamo nelle politiche ci facciamo delle cose insieme non solo economiche oppure evidentemente noi non avremo successo sarebbe meglio infatti dire dalla logica ecco del bancomat della mera filantropia a quella del fundraising in partnership ok resistete ancora 5-10 minuti e facciamo la pausa no questo lo possiamo saltare voglio arrivare invece a questo che è importante vi devo raccontare un fattarello ormai è passato tanto tempo il mondo è cambiato però io lì ho cominciato a capire come come tenere sotto controllo la difficile funzione della raccolta fondi da aziende un giorno vado da Vodafone con un progetto da finanziare che era tendenzialmente mission impossible cioè dovevo trovare lo sponsor per un libro che già non è che ce ne sono tanti di libri sponsorizzati e che era una sorta di rapporto sulla cultura in Italia con annessi tre convegni di presentazione no e vado da Vodafone vado da Vodafone peraltro perché Vodafone comunque è uno spender nel campo della cultura cioè dati di soldi e poi perché ho contattato un dirigente di marketing che cosa veramente assurda mi risponde con una email dopo 24 ore non di più dicendo ok incontriamoci questa è una cosa che non succede quasi mai e siccome è successa dico che cosa bolla in pentola vado lì con la mia cartellina giacca e cravatta perfetto gli propongo dico il progetto e alla fine gli dico per questo chiediamo una sponsorizzazione a Vodafone e lui mi fa Vodafone non fa sponsorizzazioni dico com'è non fa sponsorizzazioni Vodafone penso tra me però sai attaccare subito così pare male rimbandisco tutta la cosa ci ritorno sul punto e gli dico e per questo chiediamo una sponsorizzazione a Vodafone no no dottore Vodafone non fa sponsorizzazioni allora lì un po' perdo la pazienza perché dico guardi scusi mi scusi tanto apro la Repubblica del giorno proprio a botta sicura pagina di Roma da Monet a Manet pa marchietto Vodafone giro pagina un'altra cosa pa marchietto Vodafone gli dico abbia pazienza a queste che so tanto per intenderci allora lui diciamo che si alza va a chiudere la porta nella sua stanza ritorna con fare confidenziale verso la scrivania e mi fa dottore ma quelle sono sponsorizzazioni sono marchette no allora io gli faccio dico eh santa pace benedetta innanzitutto non le chiami così cioè state gestendo delle relazioni a me mi va benissimo però ecco l'unica cosa l'unica preghiera dottore abbiate pazienza quando andate ai convegni non parlate dell'impegno di Vodafone la cultura le sponsorizzazioni perché lei capisce poi dopo io vengo da lei e gli chiedo le sponsorizzazioni cioè non è che ho sbagliato io avete sbagliato voi allora visto questo clima così di confidenza lui dice però dottore mi seguo un attimo mi fa lui ha presente la guida Michelin dico sì quella dei ristoranti no ecco perfetto se voi faceste un servizio tipo guida Michelin a delle mostre tipo tre forchette quattro cappelli secondo accessibilità qualità delle opere orari eccetera eccetera noi lo mettiamo sul numero 48823 per cui un cliente Vodafone con quel numero vede le mostre che ci stanno no e vede direttamente anche quanto sono valutate poi spinge asterisco e fa la prenotazione online e se la va a vedere la mostra io lo blocco dico guardi è un'idea geniale soltanto nella nostra mission le nostre competenze sono altre mi sembra veramente una bella idea ma non siamo noi il partner per fare una cosa del genere e allora tendo un po' a rilanciare la questione e dire beh in effetti guardi dottore noi non stiamo chiedendo una sponsorizzazione lì ho fatto autogol ma è giusto non si finisce mai di imparare aveva ragione lui anzi aveva ragione Vodafone perché ho fatto un errore io gli dico ma in effetti io non sto chiedendo sponsorizzazione e già qui è un errore dice sei venuto a chiedermi una sponsorizzazione e mi dici che non viene a che responsabilizzazione c'è qualcosa che non torna noi più che altro veniamo qui per la responsabilità sociale perché voi comunque investite in cultura quindi investite dei soldi e questo è un rapporto che in qualche modo vi dà delle informazioni per migliorare la vostra politica sulla cultura cioè per prendere decisioni meglio che cosa vuole la gente come va la cosa e via di seguito quindi guarda più alla responsabilità sociale piuttosto che alla pubblicità e lì l'autogol finale è questo e lo sapevo ma io dovevo fare la trattativa è che Vodafone la responsabilità sociale la fa con la fondazione non la fa con l'azienda quindi sto chiedendo i soldi al posto sbagliato e lui dice beh dottore questo però lo deve dire perché sta al piano di sotto alla fondazione Vodafone perché non sono andato alla fondazione Vodafone ecco è un autogol completo perché la fondazione Vodafone ti dice per che cosa vuole finanziare la fondazione Vodafone in Italia non finanzia cultura almeno che non sia legata a un tema sociale di bisogno e via di seguito quindi magari fa Scania Celestini teatro in periferia perché si sta occupando delle periferie eccetera eccetera ma non ti fa come fondazione il teatro la cosa e via di seguito ok e quindi a questo punto mi rimaneva che chiudere la cartellina andare via e sull'uscio gli faccio ah dottore a proposito di Marchette ma noi mettiamo intorno al tavolo nei convegni tutti gli assessori regionali alla cultura lui si ferma un attimo ma se mi diceva gli assessori al bilancio ne avremmo parlato ok allora diciamo che questo episodio per me molto istruttivo assolutamente molto istruttivo mi ha aiutato a capire ma quando l'azienda dice io sponsorizzo perché poi nel gergo sponsorizzo dietro questo atto di sponsorizzare quale motivazione c'è che cosa lo muove a fare che cosa perché più io riesco a capire questo più riesco a capire se ho qualche cosa realmente da offrire allora nel primo caso è una pratica la sponsorizzazione tesa a regolare le relazioni che è una funzione essenziale e onesta dell'azienda l'azienda ha i soldi suoi fa il cavolo che gli pare almeno che non faccia fatture false imbrogli eccetera eccetera è libero di fare quello che vuole io non posso dire è che schifo questo lo dicono gli italiani perché sono vergognosi ma l'azienda che non gestisce le relazioni anche con questo strumento va a casa peraltro a volte con questo strumento si fanno anche delle cose buone il sindaco chiama un'azienda dicevo io fa un teatro in periferia perché le periferie non hanno cultura me dai una mano è chiaro che lo faccio per fare un favore al sindaco anche ma lo faccio per poi produrre un bene sociale quindi voglio dire c'è pure del buono in questo due è quello che mi proponeva lui che però attenzione alla sponsorizzazione che vuol dire facciamo Gen Venture per fare affari c'è un qualche cosa che l'azienda deve portare un aumento di vendite un nuovo prodotto un nuovo sistema di produzione non è più roba da marketing è roba di produzione ok di vendita il terzo è quello che gli proponevo io quello classico tu mi sponsorizzi hai pubblicità immagine però a patto che io che gli vado a proporre qualcosa ho un appeal mediatico cioè glielo posso portare in dote io che gli portavo tre convegni avrò fatto due articoli sul giornale quel libro l'avranno comprato sì e no mille persone le altre stanno a scaldare un magazzino detto proprio sinceramente ma che dote gli portavo pubblicitaria sì una carrellata rapida del tg3 con un'intervista a qualche politico e il logo dell'azienda manco si vedeva perché la televisione almeno che l'azienda non abbia pagato sta attenta nelle carrellate a non far vedere e se no altrimenti si frega con le sue mani quindi figurati vantaggio fiscale ce lo aggiungo ma in quel caso io non ero neanche una ollus quindi manco il vantaggio fiscale gli potevo dare però ci può stare e invece la quinta cosa è una forma della responsabilità sociale di impresa che ormai l'azienda tende come nel caso di Vodafone proprio a separare dall'attività aziendale se non creando una fondazione dandogli proprio altri responsabili in genere la responsabilità sociale di impresa ecco l'altro errore grave che ho fatto io non sta mai nel marketing dell'azienda come punto di riferimento sta nel consiglio d'amministrazione dove si gestiscono le relazioni le strategie d'azienda il marketing tende a odiare la responsabilità sociale di impresa molti uomini di marketing dico che palle sta responsabile se cedessero metà dei soldi che l'azienda spende in responsabilità vedi come schizzerebbero le vendite e quelle della responsabilità sociale di impresa dico che palle questi del marketing capiscono solo promuovi vendi vendi promuovi non capisco la società è complessa sono proprio culture diverse uomini diversi ok quindi io ho fatto un altro errore lì sono andato a battere cassa responsabilità sociale di impresa nel luogo del marketing e questo è un torto per il responsabile della responsabilità sociale di impresa di Vodafone che giustamente ha ragione io gli do ragione non mi voleva incontrare c'è ragione perché tu hai fatto un errore grave hai studiato male Vodafone e siccome io non ho tempo da perdere non ti puoi permettere di venire da Vodafone facendo degli errori così pacchiani cioè per me è un metodo di selezione non sei buono a chiedere soldi giusto chapeau incartato portato a casa ho ristudiato e poi alla fine ho fatto anche cose con Vodafone ma è giusto così allora questa è una priori perché la prima domanda che ci facciamo dopo la pausa è la pausa la facciamo comunque di un'ora abbiate pazienza che così arrivo a un punto e dopo facciamo solo laboratorio un attimo ancora di pazienza allora questa è una prima cosa che io posso fare di quello che io offro del mio prodotto del mio progetto dentro ho dei valori qualcosa di consistente da portare su questi tavoli non è detto che ce li devi avere per tutti alcuni abbiamo visto che hanno solo la responsabilità sociale di impresa adesso vado alla grossa altri invece possono avere solamente un motivo di business quindi capire dove io ho maggiori asset valori da poter giocarmi io non ce li avevo grandi valori di sponsorizzazione ho sbagliato sono andato lì sulla cosa più debole o meglio più che debole una cosa che non interessava a Vodafone Vodafone usava la compra con milioni di spot cose figurate che gliene frega che sta a un convegno gli fregava solo se gli dicevo ti porto però tutti gli assessori al bilancio sono quelli che decidono di fare un contratto quadro tutte le linee del comune sono omni delle Vodafone questo gli potrebbe interessare come si lavora sulle sponsorizzazioni questo è il passaggio all'operatività perché il vero problema delle sponsorizzazioni è che cosa offro a chi e poi come ma il vero problema è a chi devo offrire che cosa noi partiamo sempre da un'idea sbagliata che il nostro progetto cioè quello che noi abbiamo deciso a casa nostra di fare è l'oggetto della sponsorizzazione no quello è il tuo bisogno non è l'oggetto della sponsorizzazione l'oggetto della sponsorizzazione è frutto di un ragionamento anche creativo che nasce attraverso questo schema si parte dalla storica analisi della domanda e analisi dell'offerta dove stiamo noi sulla domanda o sull'offerta fatemi godere dai nell'offerta bravi perché la logica è proprio questa anche l'approccio psicologico deve essere quello io vado dall'azienda a offrire qualche cosa di utile per loro se io vado all'azienda a domandare l'azienda dice hai sbagliato io vendo non do ok e l'azienda invece si presuppone che abbia una domanda tale per cui quello che io gli vado a offrire risponda a un suo problema un suo bisogno non un problema ok questo è lo schema giusto quindi analisi della domanda vuol dire che io mi studio il mercato delle aziende se penso in ipotesi che questo possa interessare alla telefonia mi studio il mercato della telefonia se penso che vado da Vodafone mi devo studiare Vodafone che cerca Vodafone che va a Vodafone tutte le cose che abbiamo detto prima l'analisi dell'offerta è un'analisi di profondità vedete che è il frutto anche dell'analisi forze e debolezze che cosa io ho tra le mie attività e quali valori hanno queste attività che possono interessare alle aziende alcune non ce l'hanno le scarto e capisco che cosa posso portare senza essere troppo diciamo esclusivi all'inizio noi ci concentriamo spesso sul progetto singolo e non sull'insieme dell'organizzazione che attraverso il progetto può portare altri valori all'organizzazione cioè guardiamo sempre il nostro singolo progetto da sponsorizzare nel contesto più ampio di tutto quello che fa l'organizzazione perché non posso escludere a priori che altre cose che faccio qua dentro possano essere sponsorizzabili al di là dell'incontro sul vino dico per dire il passaggio essenziale è che tra quello che cerca o io penso sta cercando l'azienda e quello che io offro ci trovo un link un legame a differenza del concetto che abbiamo usato prima che era un link relazionale cioè ti chiamo ti trovo questo è un link contenutistico adesso vedremo che tipologia di link ci possono essere se c'è un link è attorno a quello che si può creare un oggetto sponsorizzabile che ha sempre questa logica posto che sono tizio e faccio questo tra me e te c'è questo o altri link per cui insieme possiamo fare questo questo è il progetto di sponsorizzazione è in virtù di un link quello che io e te possiamo fare insieme ok? non è il mio progetto se no quella è mera filantropia io faccio un progetto è bello te lo dico io ho bisogno dammi i soldi punto è un'altra cosa in questo processo avremo degli scarti lui dice dottore ma lei mi fa la guida Michelin è uno scarto per me non è che lo butto via perché era pure una buona idea però non lo potevo fare così come non tutto quello che faccio io posso mettere qua dentro è uno scarto non è che lo butto via perché per me è importante ma non tutto mi conviene portarlo nelle sponsorizzazioni basta qui siamo in discesa una volta che ho l'oggetto sponsorizzabile faccio un'analisi di fattibilità perché se io dico va bene ma gli possiamo fare gli stand c'hai la corrente a 380 volte hai le strutture sei in grado di garantire questa cosa oppure fattibilità sociale vogliamo legarci con Barillo oppure no cerchiamo di non fare disastri inseguendo soldi una volta che abbiamo fatto l'analisi di fattibilità proposta trattativa contratto poi alla fine daremo qualche trucchetto per come fare questa parte qui attenzione che con l'azienda la trattativa è normale ma provo anche a livello di succo 500 no 300 no 400 ma 10 biglietti gratis allo spettacolo no 380 ma 12 biglietti si arriva anche a questo quindi state pronti non vi preoccupate è normale si tratta alla fine sempre un contratto anche se la forma che prende è una donazione filantropica che non prevede un contratto benissimo dottore vi ringrazio adesso vi mando una lettera di richiesta e voi ci rispondete per accettazione perché non ci ho scritto giocondo in fronte ok ok ci hanno dato i soldi noi dobbiamo curare come fundraiser la realizzazione del progetto affinché questo progetto rispetti tutto ciò che abbiamo pattuito con l'azienda e anzi se è possibile farlo pure meglio perché ciò è funzionale la fidelizzazione abbiamo visto ci sono aziende che cercano partner per 4-5 anni alla prima botta noi dobbiamo fare una figura da paura perché loro devono tornare a casa e devono dire forse abbiamo trovato un partner per i prossimi 3-4 anni che vuol dire che l'entità della donazione dell'azienda sale e soprattutto che te dà continuità si arriva poi in questo caso a fare anche dei contratti preventivi ok però prendiamo un impegno che lavoriamo insieme per 3 anni per carità per buone ragioni lo possiamo riuscire però no e allora quel punto torni a casa molto più sereno che tipo di link possiamo avere con le aziende questa è la parte anche più creativa e divertente sul quale faremo laboratorio no scusatemi questo ve l'ho detto a voce salto che cosa è la domanda che cosa è l'offerta tipologia di link questa è tratta dalla letteratura di marketing per le aziende è un manuale di sponsorizzazioni per le aziende non per noi che chiediamo soldi quindi è tendenzialmente una letteratura è una terminologia che è piuttosto condivisa dalle aziende forse un po' demodè ma allora abbiamo il legame di prodotto cioè tra quello che faccio io l'organizzazione e te c'è un legame di prodotto esempio maratona acqua minerale ma so io che suono si è FaceTime capito? cioè quindi perché l'acqua minerale finanzia la maratona perché non c'è maratona senza acqua perché sennò al terzo chilometro muoiono i corridori e non c'è altra spiegazione da dare è talmente evidente poi c'è il legame con l'immagine del prodotto che è un'altra cosa esempio concerto rock blue jeans non è che io se non vado con i blue jeans al concerto rock non mi fanno entrare quando faccio questo esempio il mio figlio dice papà ai tempi tuoi mi scendo la lacrimuccia e dico vabbè mi vengono questi esempi che vuoi fare è chiaro che ci vado comunque al concerto rock ma l'immagine della musica rock bene si sposa con l'immagine dei blue jeans va bene? poi c'è il legame con l'immagine dell'azienda attenzione azienda e prodotto non sono la stessa cosa se io vi dico Procter & Gamble vi parlo di un'azienda e poi vi dovrei enucleare tutti i prodotti che hanno una loro vita autonoma Dash Dixan questo permette Dixan non è di Procter & Gamble questo permette a Procter & Gamble di avere più prodotti anche in concorrenza tra loro se fossero tutti a forte marchio Procter & Gamble sarebbe una follia e quindi Linus e Pampers sono tutti e due prodotti di Procter & Gamble no? mi permette di fare i profumi la carta igienica ma anche le chipster se fosse tutto a marchio no? lo stesso vale per Enkel lo stesso vale per grandi aziende quindi questo come principio generale facciamo un esempio convegno sull'economia banca sponsor ci va lì col prodotto oppure il legame con l'azienda cioè può un'azienda che è la banca scusami non essere nel posto in cui si discute dell'economia dei trend eccetera non essere in un posto in cui si parla di economia legarsi ai trend dell'economia target link il legame è con il target della tua attività perché? perché per l'azienda possono essere clienti partner alleati altri pubblici che comunque interessano all'azienda ricordatevi l'esempio di ieri ciupa ciupa teatro non è spiegabile altrimenti poi c'è il legame storico ho già fatto qualcosa con te che per noi va analizzato sia in senso positivo che negativo il senso di positivo è che al limite a me qualche volta mi conviene regalare una sponsorizzazione cioè mi conviene avere il marchio di un'azienda perché crea un precedente perché il prossimo anno io vado lì e faccio toc toc abbiamo già fatto qualcosa insieme guardate che questo per l'azienda conta se tu vai da un uomo di marketing e dopo deve andare dall'amministratore legato e dire sponsoriamo Tizze e Caio la prima cosa è gli dire all'amministratore legato abbiamo già fatto con loro rassicura beh almeno che non abbiamo combinato disastri ma attenzione anche in termini di competizione e concorrenza se un'azienda si vede che si è legata storicamente a una determinata causa a un determinato soggetto o noi entriamo dentro e gli dobbiamo dire a brutto muso basta di perdere tempo con gli altri fai con me o se no le nostre speranze e beh vane ma comunque molto limitate magari ci provo però non è che possa andare lì con l'idea che gli cambio la loro consuetudine di stare attaccati a c'è il teatro lo fanno con il piccolo di Milano da tempo che gli sei andato a proporre di finanziarmi il mio teatro e mi sa che è un po' difficile meno che non ha letto sul giornale divorzio in atto Tastreler e l'azienda che ne so o se no devi fare una concorrenza spietata BNL finanziava storicamente il Festival del Cinema di Taormina è arrivato il Festival del Cinema di Roma con le sue truppe cammellate di che BNL viene con me infatti le dichiarazioni del Presidente e del Direttore insomma del Festival del Cinema di Taormina dopo appunto che BNL ha deciso di andare a Roma sono state tremende proprio farà molti disgraziati è proprio questo il livello che si leggeva è assai proprio lui avrà fatto qualche errore evidentemente legame di opposizione questo è tosto spieghiamolo subito legambiente campagna fiumi puliti Eni no c'ha secca e come hanno fatto un sacco e come hanno fatto un sacco di soldi la campagna è andata benissimo e nessuno e nessuno si è sconvolto è il legame di opposizione è il legame di opposizione è chiaro che il legame di opposizione come si dice in gergo spacca cioè appunto provoca questa reazione è l'Eni e quindi ti si fissa in testa ho capito quello che quello che io infatti ho detto prima ricordatevi l'analisi di fattibilità non è che automaticamente devo fare una cosa con Eni solo perché mi da un sacco di soldi devo fare un'analisi di fattibilità in quel caso legambiente convocò il congresso nazionale cioè era già convocato il congresso nazionale in cui ha discusso se era e a quali condizioni era possibile fare delle partnership con le aziende che diciamo volontariamente o involontariamente producevano impatti e questo era in linea con la cultura di legambiette WWF non l'avrebbe mai fatto Greenpeace lo esclude per statuto no? Le gambiette ha un altro tipo di approccio più politico no? è più posizionata non nel duro e puro è più posizionata nel cerchiamo di cambiare insieme il mondo affari loro non è che dobbiamo sindacare se è giusto o sbagliato quindi ha fatto alzare la mano al congresso e ha visto che il 98% era d'accordo un 2% di duri e puri se ne sono andati via intanto se ne sarebbero andati via per altri motivi non è che bisogna essere sempre tutti quanti d'accordo e la cosa è stata fatta nessuno si è sconvolto è andata molto bene chiaro la cosa è stata studiata bene intelligentemente non dava solo soldi Eni Eni doveva garantire che in alcuni stabilimenti ancora prima che entrasse in vigore una nuova normativa europea cambiava la qualità degli scarichi a fiume ma mica è scema le gambiette quindi ha portato a casa uno scalpo sociale e non solo uno scalpo economico perché sennò veramente ah le marchette è evidente ora questa opposizione può essere di tipo politico ma anche di immagine no? vabbè ci fu una squadra di di palla a mano femminile che si fece sponsorizzare da Atu produttore dei preservativi non è durata molto però eh quindi è chiaro che tutto ciò che fa opposizione spacca da un punto di vista di comunicazione lascia il segno quindi ha un alto valore se è fatta bene e quindi in genere un legame di opposizione non porta a sponsorizzazioni di poche lire eh non lo dovete fare apposta ma non lo escludete non lo escludete personal link che ne so potrei dire pompe funebri che sponsorizzano la pediatria dell'ospedale ecco potrebbe anche essere questo un legame di opposizione perché da un punto di vista di comunicazione vai sul giornale non c'è dubbio è automatico che vai sul giornale legame personale non nel senso che lo conosco mi fa un favore quello l'abbiamo già discusso nelle nostre relazioni è chiaro che se io conosco il direttore marketing di un'azienda ci vado comunque da lui anche se non c'è un forte link no io qui dico che il mio interlocutore l'imprenditore è coinvolto personalmente nella causa sociale per la quale io opero questo è tipico per esempio di alcuni settori IDS prevenzione della droga i soldi li trovano presso imprese dove imprenditori hanno avuto problemi con queste cose ci mancherebbe altro attenzione questo potrebbe essere molto velo nell'arte perché io sospetto che sto parlando proprio di arte più che di eventi un'azienda finanzia l'arte contemporanea solo se dentro l'azienda c'è qualcuno che gli piace se no è veramente difficile da questo punto di vista cercare di capire se sto facendo promozioni di questo tipo di cose quali sono i gusti del mio interlocutore è piuttosto importante perché non è impossibile l'ho fatto con una mostra di arte contemporanea anche con autori molto importanti ma veramente molto molto importanti da andare di aziende che proprio non ti seguivano perché per loro l'arte contemporanea faceva schifo e non guardavano neanche la bontà del progetto a punto di vista di comunicazione non guardavano manco i nomi degli artisti vi stavo parlando di Yoko Ono Kunellis insomma non è robetta ma proprio un cefalogramma piatto zero geographic link il legame sta perché stiamo tutti e due sullo stesso territorio insistiamo sulla stessa comunità una volta negli anni fino agli anni 50, 60 anche 70 è stato usato delle aziende in maniera schifosa questa cosa qui Montedison o Enichem non mi ricordo più chi era Apriolo Gargallo che è in provincia di Siracusa che è stato il secondo più grande polo petrochimico d'Europa a più alto rischio e gli ha dato tutto a Apriolo Gargallo che è un paese di pescatori che non esiste più è adesso un caseggiato di operai lo era perché poi l'hanno tutte chiuso queste aziende però Apriolo Gargallo gli aveva dato uno stadio tenso struttura fichissimo la migliore squadra di basket femminile che manco sapevano che era il basket femminile infatti erano due russe una cubana quattro americane poi c'era il playmaker siciliano che ha vinto per 3-4 anni di seguito il campionato europeo di basket e quindi era proprio la mera restituzione anche neanche tanto intelligente almeno Coca Cola ad Atalanta ha fatto gli asili le biblioteche però la logica era quella io in qualche modo ho vinto anche depredando comunque grazie al territorio restituisco al territorio spesso un piatto di lenticchie però restituisco invece con la responsabilità sociale d'impresa questo ha preso assolutamente una linea molto più interessante cioè io sto in un territorio sono cittadino di quel territorio faccio parte della comunità e quindi la mia attenzione è col territorio mi interessa meno dei bambini ma se il territorio mi dice bambini io faccio bambini perché il mio link è con la comunità territoriale e non conosco il basket brindisi quindi non posso risponderti finché la logica ci sostiene esiste anche no link un'azienda ha dato dei soldi a qualche d'uno e non si capisce perché questo se succede succede con grandi marchi è chiaro che se io sono Teleton mando mille lettere a mille aziende e dico spettabile azienda la invitiamo a sostenere non è che va a fare l'analisi del link cioè il marchio o decide l'azienda qual è il link non so se mi spiego in quel caso è l'unico caso in cui io dico si possono fare anche operazioni quantitative cioè scrivo a tante aziende mando input a tante aziende però devo avere un marchio forte è una cosa molto conosciuta ci deve essere consuetudine vi sconsiglio invece di fare voi strategie quantitative è molto meglio contattare 10 aziende ben selezionate piuttosto che andare a presto a 100 aziende assolutamente proprio su questo mi sento tranquillo ci metto la firma garantito ok però può anche capitare che qualcuno ti dà i soldi e tu non capisci perché si prendono uguale ultima cosa e facciamo la pausa noi falliamo nelle sponsorizzazioni perché perché non ci ragioniamo perché non ci viene una buona idea perché non sappiamo contattare l'azienda ma c'è un motivo chiarissimo gli chiediamo i soldi fuori tempo massimo questa è una certezza ed è peraltro un errore grave perché è anche una mancanza di rispetto per i tempi dell'azienda cioè perché io te devo mettere fretta cioè già me la mette l'amministratore delegato il fatto che le vendite non vanno bene arrivi te e me metti fretta pure te arrivi tardi allora quali sono i tempi della sponsorizzazione questa è la domanda a sinistra vedete i tempi dell'azienda a destra i tempi dell'organizzazione eh cioè i tempi che dovrebbe avere l'organizzazione anche questi sono i tempi che dovrebbe avere l'azienda perché pure le aziende predicano bene e razzolano male però razzolano meno male di noi da questo punto di vista tra gennaio e aprile il quadrimestre che è appena finito che cosa ha fatto l'azienda ha elaborato le linee guida di investimento e quindi incomincia a elaborare il bilancio preventivo del 2014 ok perché perché ha analizzato il 2012 e sta vedendo nel primo quadrimestre del 2013 che succede con le sponsorizzazioni che va che non va eccetera e si fa un'idea che farò nel 2014 e incomincia quindi a strutturare anche il bilancio non nel senso tecnico ma di dire beh il principale investimento lo faremo sulla Champions League il prossimo anno perché ci siamo fatti questa idea quindi l'organizzazione nel primo quadrimestre ha analizzato che cosa può offrire guardando le sue attività 2014 e già qua non ci siamo eh perché noi stiamo ancora guardando alle attività 2013 oh questo prendetelo come punto di riferimento generale poi è chiaro se vado a cercare mille euro una cosa se ne vado a cercare 50.000 è un'altra e quindi sto proprio elaborando le idee da presentare alle aziende probabilmente selezionando il tipo di aziende e quindi elaborando i primi documenti generali di sponsorizzazione va bene perché tra maggio e agosto cioè in questo periodo l'azienda sta decidendo che cosa farà nel 2014 e quindi sta decidendo lo faccio con le carte del Salento piuttosto che e questo è il momento in cui noi dobbiamo contattare l'azienda inviare i documenti di sponsorizzazione questo è il momento della promozione perché tra settembre e dicembre ultimo quadrimestre l'azienda sta semplicemente definendo contratti e spendendo fondi sulla carta non sta recependo più proposte basta allora a noi che ci rimane da fare individuare ulteriori proposte di sponsorizzazione chiaramente di piccola media entità devo scendere di livello oppure che sono finalizzati a specifici interlocutori no ma ormai c'è un buon rapporto con Vodafone ci posso andare anche se sono fuori tempo massimo no? cioè ci devono essere delle condizioni particolari ma se è la prima volta che contatto un'azienda con questi tempi vado male nel 2014 lui spende solo fondi a me mi rimane solamente da andare all'azienda e gridare aiutatemi oppure c'è un terremoto cioè ci deve essere un fatto specifico l'unico caso che a me è capitato è aziende che lanciano un nuovo prodotto una nuova linea tendono ad avere un budget aperto perché sono in fase di test non possono stabilire tutto a priori fanno un test vedono come va allora in quel caso tu anche diciamo proprio sul momento puoi fare delle proposte ci entri di striscio ma perché lui ha ancora disponibilità economica e può decidere autonomamente perché sennò è chiuso cioè lui non può ritornare al consiglio di amministrazione e dire voglio fare una cosa nel 2014 il consiglio di amministrazione dice sei scemo abbiamo chiuso il bilancio no? almeno che non dice è successo un terremoto oppure mi hanno fatto una proposta da paura sono soni ho sbagliato ho fatto un gioco ho sbagliato stiamo tutti quanti male e lì mi ha fatto una proposta recuperiamo il rapporto con i bambini e le famiglie cioè ci deve essere proprio un motivo straordinario allora attenzione che le aziende predicano bene e razzolano male questa cosa qua tendono a farla qua capito? quando devo chiamare le aziende io? quando? qua? qua? quando le devo chiamare? a maggio perfetto bravi ma non mi ha dieci e l'ode perché? dice ma perché chiamarle a maggio se quelli non sono pronti? perché noi dobbiamo fare gli strafighi no? e quindi la cosa deve essere così pronto la contatto perché le devo fare una proposta e lui risponderà ma no ma abbiamo già chiuso il bilancio no scusi ma che cosa ha capito? per il 2014 no evidente eh dico ma che ma che me fa me lo dite lei ah per il 2014 beh senta guardi noi veramente periodo di crisi stiamo rivedendo un po' i nostri progetti ancora non abbiamo le idee chiare ma non si preoccupi dottore per l'amor di Dio mancherebbe altro quando è che più o meno avrete diciamo le idee avrete conformato ma penso per la metà di ottobre dirà lui no? perfetto quando la chiamo il 12 di ottobre agenda la mano la chiamo cioè gli dovete stare col fiato sul collo questa è la strategia piede nella porta lui apre lo spiraglio ci mettete il piede sperate che lui non sia violentemente non chiude la porta perché dovete già questo vi aiuta a tenere le fila diciamo del del rapporto e sicuramente perché se noi altrimenti non rispettiamo i tempi noi diamo su un piatto d'argento all'azienda la possibilità di dirci no capito? l'azienda se può dirvi no a priori non analizzare un progetto non doversi andare nell'anima a sentire che cosa ne pensa la comunicazione lo preferisce perché la sua cosa principale è vendere quindi questa roba non gli cambia veramente la vita risparmia tempo meno rogne anche perché se l'azienda è seria e ti dice si mi mandi qualche cosa poi deve rispondere eh? perché è brutto non rispondere adesso anche gli uomini d'azienda hanno una loro etica eh? anche perché poi gira voce anche tra noi fandrese lascia perdere quello dice no alcuni che proprio mai in pubblico però insomma dico ad altri miei colleghi e altri invece che sono veramente delle persone serie ma tanto di cappello dei grandi professionisti e io quando li incontro sono l'altra cosa posso dire proprio due consigli al volo mentre andiamo a fare la pausa veramente primo un'azienda darà una sponsorizzazione se ci sarà un incontro di persona la sponsorizzazione per corrispondenza non esiste quindi la prima cosa che voi dovete chiedere è l'incontro ancora prima di mandare materiale poi lui vi dirà non te posso incontrare mandami qualche cosa sì te lo mando ma quello che voglio da te è un incontro se un'azienda non arriva mai ad avere un incontro con te dopo tre quattro botte staccate la spina perché automatico non vi darà i soldi ok questa è la prima cosa la seconda cosa invogliate l'interlocutore a darvi comunque una risposta per quanto negativa questo per due motivi principali primo non è detto che l'interlocutore anzi probabilmente l'interlocutore è un italiano e come tutti gli italiani ha vergogna a dirti di no gli fa problema è un problema di autostima gli dispiace non vuole la vestarogna c'è la cosa più importante io gli devo dire no non me va no e allora invece voi lo dovete facilitare in questo perché è meglio avere un no subito e scartarlo dalla lista piuttosto che portarti avanti io ho avuto interlocutori che veramente mi avevano portato avanti per mesi ah sì certo no no c'è un interesse però devo fare ancora un passaggio con la comunicazione non ha manca aperta la cartellina mia cioè sì mi manca un'unima cosa con l'amministratore delegato poi allora tu lo insegui perché gli devi stare col fiato sul collo è una regola lui lo sa ma non è che si sconvolge dovete alzare il telefono rompergli le scatole non si fa nulla se non fate così dovete essere la sua dannazione con educazione spiritosaggima dovete essere la sua dannazione se no aspettate che lui rialzi quando vi dicono le faccio sapere clock è finita cioè no dottore la chiamo io della serie ma che te pensi che so cretino dovete invogliarlo quindi a dire no se no e se vi dice no dovete dire grazie magari si comportassero tutti come lei le chiedo un'ultima cortesia ma non per insistere mi può dire perché no perché mi fa un'enorme cortesia e capisco dove ho sbagliato nel scegliere voi in che cosa è debole la proposta io lo chiedo proprio come cortesia personale a questo punto almeno nasce una relazione tra colleghi di stima io per esempio ho un'ottima relazione con il capo della comunicazione di Peugeot che non mi ha mai dato una lira ma è una donna bravissima in gamba lei sa che io gli mando delle proposte come Cristo comanda io so che lei mi dice sempre la verità no l'unica persona che mi ha richiamato per aggiornarmi della mia pratica quindi voglio dire si creano anche delle relazioni l'unica persona alla quale io posso dire guarda ho un'idea a te ti viene in mente qualcuno che può essere interessato da quest'idea ecco quindi queste contano perché poi in questo mondo siete un operatore voi se in questo mondo vi affermate incominciate ad essere una specie di ancora di salvezza per le aziende perché l'azienda poi che decide di sponsorizzare non è che ha tutte le idee chiare è capace che te chiamano per avere un consiglio eh ok va bene signori allora noi delle cose essenziali di quello che abbiamo detto con l'aiuto del booklet dopo la pausa che è rigorosamente di un'ora quindi l'abbiamo iniziata mezz'ora dopo esatto riprendiamo alle due e mezza direttamente con il laboratorio non c'ho la pennetta che Dio vi benedica sempre sono consapevole che tutto ciò avrà un prezzo sì no nella pausa la pausa è che altrimenti Ryanair mi fanno dei problemi mostruosi purtroppo eccoci qua allora signori adesso laboratorio cerchiamo di mettere in pratica questo schema qua non possiamo fare più di tanto analisi della domanda però insomma cercheremo di arrivarci ad intuito e perché no limite quando avremo individuato un'azienda da intuito vediamo se riusciamo a prendere qualche informazione sul loro sito invece quello che vi chiedo di fare è in effetti forse è meglio che faccio prima rivedere questa ecco innanzitutto queste cose qui peraltro le trovate nel booklet sono le cose le due o tre cose minime che vi chiediamo nel booklet siamo arrivati alla raccolta fondi da aziende la prima cosa che oh innanzitutto scusatemi io ho bypassato una cosa che diamo abbastanza per scontato quanti soldi dobbiamo trovare nell'ottica del fundraising per fare tutte le cose che noi vogliamo fare qui nel museo del gusto e beh ognuno si deve porre più o meno un obiettivo economico perché poi la strategia se no diciamo in relazione a piano di attività esatto ho una necessità di 8.000 euro al mese 8.000 euro al mese quindi dobbiamo trovare partner di diversa natura o fondi da individui eccetera per 2 per 8 6 96 100.000 euro l'anno ok? alla grossa perfetto voi quanto vi serve? siamo attestati di 25.000 25.000 per quale obiettivo? per una rilassura di 5.000 ma quindi diciamo che voi con le carte volete finanziare qualche cos'altro questi sono i costi per mettere in produzione a un livello adeguato la carta il mazzo il mazzo ok 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 però voi a differenza degli altri diciamo che dovendo andare a finire un'operazione di mercato con 25.000 euro voi sul mercato ne avreste 40.000 ok questo è quello che volevo sentirmi dire ok perché voi sareste nella condizione che se questo qui è un valido business plan hanno un investitore ci mette 25 e ne recupera 30 per dire no? ok come logica voi valla a trovare però come logica è questa allora voi invece quanto dovete trovare nel fundraising? 5.000 e che ne parliamo a fare 5.000 un giro di telefonate è fatto dai va bene cioè ok lì infatti bisogna essere molto attenti fare un budget completo quello che possiamo mettere in beni e servizi attenzione lo dico proprio per inciso se poi vado da un'azienda per chiedergli 5.000 io comunque gli devo portare o gli devo comunicare a lui che il valore di quello che produco è molto di più perché io devo dare il valore economico a beni e servizi lavoro volontari lui deve capire che con 5.000 euro sale su una macchina da 100.000 euro quindi questo bisogna sempre mantenerlo fermo perché uno se fa solamente il conto di cassa grazie noi abbiamo volontariato servizi gratuiti eccetera siamo molto bravi in questo e quindi spesso appare che il valore di quello che noi facciamo è più piccolino mentre invece non è vero voi invece dovete trovare 5.000 euro vabbè dai almeno non ci abbiamo proprio una cosa eh tanto per iniziare 5.500 e 20 ottimo benissimo allora la prima cosa allora voi seguite adesso in questo laboratorio con il quale io sarò molto più a contatto con voi perché si tratta appunto di fare un po' di brainstorming prima cosa cerchiamo di capire alla grossa adesso guardiamo solo le aziende cancellate dalla testa individui o altro quali sono dove ci abbiamo i maggiori valori da portare dove dobbiamo puntare principalmente eh potrebbe anche essere più di una cosa il primo schema vi chiede proprio di fare questo cioè di andarvi a fissare per ognuno di queste diciamo motivazioni che potrebbero spingere un'azienda dov'è che io ho delle cose da offrire le caselle bianche in cui non c'ho niente da offrire sono benvenute eh se voi prendete il booklet ve ne rendete conto siamo sì 9, 10 qualcosa del genere ecco mi metto vicino a un booklet che così sono più preciso gira gira costruiamo la sponsorizzazione dove sta hai stampato fino a qua perché era finita la carta va bene ok ciao com'era la storia sui maschi siamo a pagina 9 dai è vero su ecco allora costruiamo la sponsorizzazione pagina 9 è la prima cosa che fate chiaramente ecco io vi ho rimesso alcuni esempi di assets che è un'organizzazione punti di forza che un'organizzazione potrebbe avere in relazione a quei singoli aspetti che abbiamo detto e dopo di che facciamo questo lavoro di link cioè seguitemi bene che questa è un'istruzione di lavoro pratico non è una non è una lezione allora io per trovare le aziende posso fare diversi itinerari poi alla fine facciamo un riassunto di questo allora o parto dal mio progetto e mi domando quello che faccio quello che sono io con chi potrebbe avere un link quindi parto da casa mia diciamo a questo interessa la telefonia ok segniamocelo poi io posso fare anche diciamo un secondo tipo di itinerario ho nel mio capitale relazionale ecco perché il discorso si è fatto molto realistico un'azienda conosco un'azienda e faccio il processo all'incontrario mi dico quell'azienda che produce pasta o che produce vino o che produce automobili che link potrebbe avere con quello che faccio io anche qui il risultato potrebbe essere nessuno o una terza cosa che potrei fare ma veramente non la possiamo fare qui è andare su internet oppure se ci fossero ricerche indagini di mercato ad hoc andare a vedere ma chi cerca cose tipo quello che faccio io che è stato fatto in passato perché potrei scoprire che tendenzialmente laddove si parla di gusto di cucina di cultura alimentare eccetera eccetera c'è un legame con la metalmeccanica eh proprio lo dico insomma guarda la metalmeccanica si lega alla pasta asciutta e quindi a questo punto mi interrogo ma forse questo link lo posso praticare pure io quindi ci sono tre modi di arrivarci partendo da me partendo da un interlocutore che conosco e partendo dal mercato che mi dice il mercato che cosa succede nel mercato no la terza richiederebbe studio comunque tempo per navigare su internet perché già ho scoperto ieri sera che almeno esiste un altro museo del gusto si chiama proprio così quindi potrei andare a vedere chi è che sponsorizza quel museo del gusto e magari scopro qualche spunto esiste un museo del gusto a Fossasco in che modo si non mi ricordo il posto si a Fossasco ah è legato a Slow Food è benissimo esiste una catena di musei del gusto ognuno dedicato al prodotto in Emilia Romagna il museo del prosciutto il museo del pano il museo del tortellino eccetera eccetera e formano una rete di musei del gusto esatto perché l'Emilia Romagna è l'unica regione che diciamo ha nella cultura a fare rete fare sistema è l'unica c'è la rete dei teatri ok ok benissimo però tutto sommato andare a vedere che tipo di aziende è chiaro che se scopro che sono aziende alimentari non ho scoperto nulla di nuovo quelle si sono musei legate le aziende ecco addirittura quindi è chiaro a Slow Food va bene ok infatti l'esempio ne potevo prendere un altro se scopro che diciamo le carte da gioco hanno un legame con Bwin cioè con gli scommettitori ladri e farambutti eccetera beh me ne faccio un'idea avete capito comunque il meccanismo facendo un po' questi due itinerari eventualmente se avete notizie di mercato come li avete voi usando anche il terzo cercare di individuare innanzitutto i tipi di link che io posso praticare e poi su questi link mettete nomi e cognomi di azienda veri sia che li conosciate sia che non li conosciate che però li avete messi nel vostro elenco che è il primo database di aziende da contattare per una ragione specifica per questo ragionamento dico Vodafone perché il link sarebbe questo lì ci fermiamo e vediamo verifichiamo se questo link funziona regge ok il lavoro che dovete fare molto semplice più creativo diciamo come lavoro guardate al vostro reale parco di relazioni perché avere un'azienda su cui io scopro che c'è o ci può essere un link che ha già una relazione con me queste sono le aziende top proprio per quello che vi ho detto prima bisogna incontrarsi parlare bisogna conoscersi e quindi quelle hanno un punto di vantaggio pronti via anche qui ci diamo una quarantina di minuti qui è chiaro che con le aziende forse non facciamo i 20-25 mila però va bene non è detto non è detto va bene va bene ok ma non è detto è vero ho detto una fesseria non è detto vediamo manco prendiamo queste quattro non c'erano altre azienda si aspetta un attimo solo un attimo un attimo non c'erano Grazie. 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 il patrocinio del turismo, mi darebbe da buttarmi su qualcosa di costruzionale, perché questo comunque è una situazione di macchina, che non si è a farci coprire la comunicazione negativa di promozione del tutto, io non escluderei, questo è anche uno strumento di macchina e io sto facendo la scelta di Fandresi, io devo procedere così Sì, per infezione c'è una piccola idea, è venuta la giornata, ho il prepasoato, ma sono solo da la cenata, c'è anche un buon po' di un'azienda di modi, che sono gli adami per il nuovo punto, siccome c'è questa simbologia, che ha lettura, c'è un'azienda di modi, di questo strumento una sorta di ricerca curata da loro possiamo anche integrare i giochi oltre e come vede siamo effettivamente potete curare le parti del sito con voi che in qualche modo vanno al vostro sito e poi vi do lì da fare mi prendo questo come sta logica e allargo il progetto culturale cose di produzione possiamo però allargare l'intera campagna anche per l'organizzazione come la scena della medicina perché ha quasi un po' le sintetiche non c'è non c'è una cosa a questo prodotto magari si può legare a gli immagini di un mare che conoscevo a quella che la immagini di un'immagine di un'immagine di un'immagine di un'immagine di un'immagine di un'immagine grazie la prima c'è facciamo la progettazione è realizzazione c'è qua metto sul mercato le aziende diciamo meglio ok diciamo che adesso in cassa per le carte e quindi vantaggio fiscale questo anche se ci potrebbe essere no, ma non ci conviene avere un solo prodotto che si è scommoso molto bene se invece tu facci una cosa non lo scoprirai lo faccio vedere però io ti dico tu vuoi prosciutto, ci ho prosciutto io ti dico tu vuoi prosciutto, ci ho prosciutto ma anche il formaggio, ma anche la coppa se sconvogli, io ho cercato un giusto è interessante il momento in cui riusciamo a spingere i vostri rapporti con le soluzioni delle droghe e le scelte, si possono fare quella regolata come vuole anche il marco assolutamente, allora supponiamo che diciamo le stazioni, una cosa all'estero io ricordo un cortevole, una cazzone pubblico cioè io ricordo un strumento molto identificativo in alcuni mercati non c'è che farmi fai vendere là no, non sto chiedendo perché mi sta chiedendo 100 mila sennò te ne chiedevo 100 mila però a me di bene a un punto più che ha un forte legato perché l'americano l'estate di America l'americano sta entrando sicuro dalla porticina di servizio c'era un'idea di rispetto però non è stato tutto questo che lo fa non riesce a pensare a andare su un buon ma anche voi c'è bisogno di 20 mila euro per fare questo se tu mi allarmi troppo del progetto dopo me ne devi andare a trovare c'è bisogno di un'idea di rispetto però non abbiamo questo è un'idea di rispetto però non abbiamo questa idea siccome ogni seme si lega di un artigianale per alcuni produttori locali siccome sappiamo bene è un libro molto più importante che ha molti storici c'è una sezione è un libro molto più importante 200 euro per avere un alloncino che è in possesso di provare nel artigianale vai lì il libro spagisce il libro questo è un film ma c'è lo stagione insieme a questo libro ti offro più questi 100 sponsor 100 buoni che è in termini per lo stesso libro è un male raccogliere per lo stesso libro è un po' di amazzine per lo stesso libro è un po' di amazzine e 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 un po' di amazzine questo sarebbe questo sarebbe esattamente tutto un po' di produzione cioè io aiuto a produrre e ventre e anche il riscolante e il costo dell'artigianale insomma ce la vede diversi l'unica che non c'è però ci vuole un po' di amazzine in serio nel senso che ti trovo e andare un venditore qui al servito di andare un venditore di amazzine di amazzine di amazzine di amazzine di amazzine no non è un discorso ci devo fare gli studi però siccome stiamo lavorando in un modo diciamo che c'è che si è ammesso anche lo che vuole più o meno nella toma abbiamo c'è la toma che adesso sappiamo che noi possiamo mettere su questo punto in un'altra pubblica e diciamo l'ultima era un progetto di appartenenza ma c'è ma c'è questo poi se si crea c'è la versione della mercata c'è questo in piccole quantità ok ma chi è che donna a chi ai centri anziani queste cose qua ma c'è una spesa e comunico la spende di due e comprare una sindicata ma però ok vediamo non lo so se qualche assessore alla cultura delle celesie abbiamo avuto le cose positive e invece soprattutto lo facciamo sotto le elezioni sicuramente può essere positiva dico però che business ci sono fa su questo va bene così andiamo a cercare i soggetti che ci possono fare le azioni 10 100 100 dei libri che le persone hanno i soldi nel cassetto e non fanno i libri e non c'è un po' fattivo che non c'è un po' libero c'è la c'è la libera è chiaro che arriva la c'è la c'è c'è se trovo cinque aziende che fanno operazione tra un euro e poi nella logica della scoperazione commercialmente funziona cinque di euro ci fanno una banca e poi resta il mercato e se funziona c'è che prova c'è anche poi da allora potete guardare la società e poi ci mettono l'idea di investimento di noi no no così allora adesso vediamo con quale tipo di azienda l'inca che è molto facile che l'avete già nominata sono tutte le cose che possono avere un link come questo link territoriale non lo scarterei per via di che la cosa l'avevo detto anche dall'altra parte se questa è una cosa che è il market territoriale ha un valore generale però può andare a soluzione in particolare dove eventualmente posso fare operazioni 50 euro per esercizio e quindi dice per tra i tanti investimenti che faccio io devo fare il pubblico c'è una funzione eccetera di me stesso questo per fare ma sostenere questo per fare allora che punto siamo che abbiamo e poi da qui lo stesso è pubblico che fa allargare la base poi fai conoscere perché qui lo offre le sanitarie e nessuno fa il successo che ha un sanitario nessuno dovete fare a vedere se stanno fuori io sono stato quel poverito dobbiamo divertire così tanto la signora dire è una cosa fantastica come no per poi ci sono a sì 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 a sì l'ora si a passare alla polizia ci sta a sì vediamo io come pensavo che link ci potrebbero essere allora c'è un link un sito e fondazione immaginare le linee di ansia abiti che in qualche modo hanno a che vedere con l'immagine con il museo no non ci vado questi giorni e qui stiamo progetti per la qualità delle parti e per il pubblico delle nostre mani sospettiamo sia questa cosa che riguarda i miei giovani educazione dei giovani e per oggi la voglia di vedere la voglia di vedere la voglia di vedere quasi il gruppo del mar l'azienda ci permette in foco oppure la valutazione dei veri il maggio sviluppo la qualificazione e l'innovazione dei servizi social e sociale sanitaria non in via sostitutiva dell'indirizzazione la mediazione culturale la sondazione il gruppo valore il gruppo di valore il gruppo di valore il gruppo di valore il rapporto il gruppo di valore il gruppo di valore il gruppo di valore il gruppo di valore quindi sarebbe in controllo che mi è giro da questo quasi in parte come abbiamo detto legato di valore che vi saluto di valore Grazie. 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 La fondazione, grazie a cielo, è più semplice, perché devi andare dalla fondazione e vedere che voglio finanziare, te lo dicono loro, l'azienda non te lo dicono loro, quindi la fondazione da questo punto di vista è una pacchia. Come azienda io sarei propensa a individuare un'azienda del territorio, non del settore agroalimentare, ma del settore a fine come stile, come gusto, come tipo, non lo so, una grossa azienda che ha capitali da investire, allora deve essere, per dire, sono pochissime aziende del territorio qui, ma c'è Melty Pot, che è una grossa azienda, vabbè vediamo chi è più brava, ma scusami, adesso facciamo Melty Pot, che link c'ha con questo posto, con quello che fate voi Melty Pot? Che cosa ho? Sto entrando a Melty Pot? No, io l'ho pensata perché lui mi piace. Ciao bella, dove stanno? Ciao bella, 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 ciao Un'azienda di moda, siamo agroalimentari, c'è una qualità con prodotti particolari di riciclo, è un'azienda di moda, perché ci potrebbe essere un legame di immagine, cioè deve essere moda più che haute couture, deve essere un qualche cosa rancurato, raffinato, che però abbia una forte radice con la terra, magari più stile etno, però certo di livello che dobbiamo portare a poco sopra. Ma vestiti da sposa non lo so perché in un contesto del genere l'immagine è quella proprio della cerimonia tradizionale. Più un liste di nozze forse, perché qua con tanti oggetti che potrebbero artigli. Ok, però qui andiamo sulla vendita. E no, sulla vendita però è qualcosa di più, sì però loro vedono, poi acquistano fuori, sì però molti qua persone che... Perché io dico, a me mi può interessare, legarmi un'immagine che è quella là. Perché ci vendono cucine? Allora, le attrezzature, bene servizi, se io vado da Smeg, Smeg ti può anche dire perfetto, ti legalo una cucina, stai un po' di legalo una cucina, perché se me serve va bellissimo, va bellissimo. Modula e cucina sono i settori che possono mandare. Certo. Cioè, qua attenzione, io non voglio dove mandare se vado da Berlone o da Smeg. Però io non li conosco, per l'alimentare lo conosco, questi no. Ok, va bene, vediamo. Cioè, io alla fine faccio i più, i più, i più. Io capace che vado forte da un'azienda che non conosco perché ho una proposta molto forte, no? Poi se ho il contatto, meglio, ma se non c'è il contatto non è che non ci trovo, per l'amor di Dio. Se ho una proposta forte da fare, vado da Dio, non è un problema, eh. Quindi, però, mi dovrei domandare, ma Scavolini, ok, mette qui una cucina che è un posto, che è un santuario della cultura, anche di un certo tipo, è molto più vicino alla famiglia, piuttosto che quei tre cretini che fanno gli spettacoli in televisione, si superfogli del cavolo, io lo ammazzerei proprio, no? E allora ci può stare. Però Scavolini è Italia, di stare qua, no? Mi potrebbe interessare, ma Scavolini dovrebbe comunicare questa cosa. Perché la tua sola forza di comunicazione non ha un impatto sul target di Scavolini. Quindi Scavolini dovrebbe dare dei soldi a te, o la cucina a te, farla, eccetera, poi venire qua con le sue truppe, fare un filmato e raccontarvi sui suoi canali, di farci pubblicità, quindi deve dare 100.000 euro a te e poi deve investire a mezzo milione in pubblicità, perché sennò non gli paga questa cosa, no? Perché è possibile farlo, per carità, però... Ci sono qui delle capri che... Ma c'è l'invento di cucina, ma c'è l'alte... Una grossa azienda che fa cucina si trova... Allora però nel caso di Scavolini ha un legame di immagine, e anche di prodotto, perché si cucina con quello che io produco. Ed è un legame di immagine perché la cucina Scavolini, tra le tante cucine possibili, non è quella ruffona, è quella che dà un'importanza alla cucina. L'altro lato Scavolini è una famiglia. E' l'altro lato di Electronus, eccetera. Diciamo, questo ci può essere come discorso, va bene? Volevamo fare dei corsi qui per il nuovo manager. Perfetto. Diciamo che se la ziella va cercando pubblicità per diffondere il proprio prodotto, eccetera, eccetera, quindi promozione, cioè... E' chiaro che questo è un posto che è troppo piccolo per comunicare. Lo vado a fare da Italia. E infatti se tu vai da Italia, dici le nostre cucine sono una retta o scramante, che sono pignonate di persone, se ne vado. Se lo faccio qui, devo fare solo un'operazione d'immagine. Per far pagare l'operazione d'immagine, lo devo comunicare in un altro modo, che non è da escludere. Cioè io, se tu ti vedi al Museo del Gusto, ti vedi a due marchi di qualità. Allora, per uno del nord è un'operazione sul sud. Chi ha interesse? Qui ci sono, diciamo, tutti stanno comprando il Salento, lo stanno comprando tutti, dal nord e dal centro Italia. Il Salento non è più in Salento. E sono tutti imprenditori che vengono dal nord. Ottimo, che si vengono a comprare. Comprano masserie, palazzi, castelli. Oltimo, cioè come i pianti sceglie. Ci sono i risultati. Non ci sono amministrati. Allora, scusami, se tu hai una strategia che mira a dire a loro venite qua e questi ci vengono qua, come no? Alcuni sono anche i miei clienti. Eh, ma lo vedi, è perfetto. Allora, tu quello che puoi offrire, al limite anche a Scavolini, è uno showroom, non è uno showroom, ma ci siamo intesi, cioè il posto in cui loro vengono a contatto, è uno dei posti più fichi d'Italia, con una clientela top che può parlare di loro in tutto il mondo. Per un'operazione del genere, quando si fa una cosa fielistica, sai quanto spende Scavolini? Tu gli costi la metà della metà della metà. Gli costa più di tutto l'inforzo. Io questo devo valorizzare, perché fra l'altro, alcuni di questi sono clienti del mio studio. Allora, vediamo, dove sta il tuo punto di debolezza nell'andare a fare una festa del genere? Perché non si può chiedere soldi. No, vabbè, ok, questo si risolve. Ti faccio io training, oggi non si risolve. Non è questo. Il vero punto di debolezza non è questo. La prima volta andiamo insieme a chiedere soldi, vedi che ci prendi gusto e tu non ti prendi più una signora. In molti casi, da sicuro. Una signora del Festival del Cinema dell'Africa, dell'Asia, c'era che una regista, persona di cultura, ha fatto dei film sull'Africa meravigliosi, no? C'ha anche un ottimo capitale razionale, però non era proprio abituata a chiedere soldi. I soldi gli davano per produrre film, ok? Però era molto di buona volontà. Dicevo, io non sarò mai capace. È venuta la prima volta, come è la Vodafone. Io poi non ho semplicemente li ho presentati, gli ho tenuto la manina, perché poi la vera forza sono loro. Vodafone gli ha detto sì, poi mi hanno telefonato e dice Mariangelo si è scatenata, cioè l'acqua minerale non l'abbiamo comprata, è andata in giro e si è fatta regalata. Cioè è diventata una macchina da guerra perché ci ha provato un gusto proprio. Allora una volta la deve portare con me così le insegno come dare. Non come dare, come pagare, come donare. Poi vedrà che gusto. Il tuo punto di timorezza può essere che il tuo marchio non è sufficientemente forte per scavolire. questo è il tuo punto di timorezza. Certo, capito? Cioè scavolini dovrebbero essere nelle condizioni di o dire a un museo del gusto oppure di andarsi a documentare e vedere una cosa che brilla perché poi scavolini ha altro da fare. Questo è eventualmente il tuo unico punto di timorezza per rivolgerti a quel tipo di soggetti. contatto con dei grossi marchi. All'inizio quando... Però tu saprai anche chiedere poco quindi cavolino. No? Io all'inizio ho contattato anche Alessi e Alessi mi ha risposto disponibile a lavorare con il nostro e un contatto che io ho fatto cadere purtroppo perché mi sono persa. Mi sono persa perché dovevo scrivere l'offerta. Loro mi hanno invitato a convulcare ma si può recuperare. Loro voleva notare una piccola esposizione dei loro prodotti qui dentro una vetrina Alessi e li ho lasciato perdere. E riprendi. Devo riprendere provare a riprendere il contatto. Mi hanno scritto proprio dal nazionale. Guarda un'altra cosa che adesso mi sta venendo in tutta una cosa. Salento la gente ci viene testata da tutto il mondo. Guarda ci sono alcune aziende che hanno soldi da spendere solamente per incontrare i top client oppure la rete di vendita. Fai conto che li portano nel Salento e io sono il signore Electrus. Electrus chiama dei key persons per fare promozione nel mondo. Li portano nel Salento di far far bagno di far pedicare di farocco di Salentino e li porta qui in una serata che sta dando un valore aggiunto enorme. Mi porta in un ristorante e li porta in un luogo di culto con le storie che tu avrai imparato tutte quante le vie in un luogo della sua vita. Tutte le vie. Cioè io spendo anche i filioni per fare una cosa del genere se sono scavolini capito? Per il pubblico di turisti che però non sia su un luogo fisico una location dove sia molto significativo fare delle attività con i miei top client oppure con la mia rete di vendita oppure con tutti i dati ecco per esempio tornando al discorso che facevi prima molti di questi alcuni li conosco per lavoro altri li conosco perché per esempio Benedetto Cavalieri mi porta personaggi incredibili di testate sai qual è il mio consiglio che adesso non riuscirete a fare ma ci potete provare secondo me per quello che ho capito potrebbe essere buono incominciare a fare una lista ma proprio veramente a genuina la mano scavando con tutti i contatti che tu puoi mettere in la vita perché potresti essere io ce l'ho nel mio dato appeso potresti essere portatore anche di un certo capitale sociale che non è che i regali andrà a essere un'altra allora Scavolini può avere interesse Scavolini o quello che sia vorrebbe interesse a un posto del genere per primo farci un ritorno all'immagine sul suo sito Scavolini e il museo del gusto sarebbe più contento se tu fossi un marchio già conosciuto tipo Italy Slow Food però per carità perché tutti andare a fare Slow Food facciamo una cosa più particolare più bella più buona eccetera eccetera uno due la possibilità di usare questa location per degli eventi ad hoc di Scavolini che non sarà l'evento glamour perché lo farebbe qua ma invece anzi è far vedere anche loro a parte la cucina c'è l'esperienza della cucina intorno questo che poi mi fa fidelizzare il cliente piuttosto che il partner alla rete di vendita e gli do un valore aggiunto che non è neanche standard non ti ho fatto vedere le cose classiche che si vedono in una città eccetera ti ho portato in un luogo straordinario va bene? peraltro nel Salento quindi posso farci un sacco di cose questa è la seconda cosa di questo terza cosa che gli voglio offrire è che se lui ha interesse diciamo a un determinato pubblico io sono in grado di organizzare cose che coinvolgono determinati soggetti poi andrei a fare questo discorso posso offrire lo che c'è posso offrire immagine andando a guardare la tua lista di questi contagi e mi domando guarda qui ho una conoscenza con Alessi che gli posso offrire a Alessi partendo da queste due cose e conoscendo questo lavoro però alla luce anche perché tutte le cose che ho sentito in questi giorni erano ce le avevo già tutte ma erano perse una di qua benissima guarda mi fa molto piacere sentire questo perché lo scopo delle mie elezioni ho messo a sistema esatto è esattamente lo scopo delle mie elezioni dare un sistema perché poi dopo siete intelligenti siete uomini del mondo navigati se poi serve imparare una tecnica se fa un corso specialistico si legge un manuale non è quello il problema è il problema del sistema quindi questo mi conforta moltissimo quindi secondo me questa è una cosa sulla quale si può iniziare a muovere la dico di più fa una cosa con scavolini una con Alessi eccetera frazioni il costo ne trovi 5 da 20 mila euro fai bello carino con tuo marito un muro dei sostenitori con lo stile vostro non la patacca di Alessi con lo stile vostro con la ceramica come è dipinta fuori madonna mia 20 mila aeree per una rosa di un paio Alessi che so hai visto tanto e me ne vuoi dare pure 5 mila a trimestre capito c'è di che provarci poi guarda se non abbiamo la palla finché non si fa un test non si prova ho messo ma tu tra due anni tre anni c'erano ma io sono la palla c'è di che provarci la palla c'è di che provare c'è di che provare che vuole dire Grazie. 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 Grazie.